Bene, buonasera a tutti. Chiedo al Segretario se c'è il numero legale. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Nomino scusatori, consiglieri Marco Bonazza, Francesco Ribetti e Giacomo Manfrini. Risultano assenti il consigliere Mauro Tavella. Giustificano in ritardo i consiglieri Giulia Bevilacqua, Giuseppe Perrone, Gregorio Martino, Andrea Cabibbo, Francesco Giannelli e Elio Rossetto. Comunico che ai sensi dell'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale, il verbale della seduta precedente, è messo a disposizione dei consiglieri, anche in formato digitale, e che può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in saletta consiglieri. Qualora entro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Comunico al Consiglio l'ordine dei lavori deliberato dalla conferenza dei presidenti e gruppi consigliari. È stato deliberato di iniziare i lavori dedicando la prima ora all'esame interrogazioni. Dopodiché si ripartirà nella trattazione della mozione numero 1 del 2013, che abbiamo interrotto allo scorso Consiglio. Dopodiché verranno esaminate le mozioni secondo l'ordine dei lavori e vi ricordo che le due mozioni a numero 4 del 2013 e 8 del 2014 verranno discusse assieme. La seduta terminerà alle 22.30. Chiedo al signor Sindaco se ha delle comunicazioni da fare. Bene, allora iniziamo con le interrogazioni. Sono le 17.31. Bene, prima interrogazione al numero 41 del 2014. Rimborso tariffa di depurazione. Perché non si è provveduto d'ufficio? La sottoscritta al Consigliere Comunale, Mara Piccini, premesso che la Corte Costituzionale con sentenza numero 335 del 15 ottobre 2008 ha dichiarato illegittimo richiedere la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione agli utenti che non possono usufruire del servizio, sancendo così il diritto al rimborso per coloro i quali lo abbiano pagato indebitamente al Comune di Pordenone. Considerato che hanno diritto al rimborso tutti gli utenti attivi o cessati, che hanno pagato la tariffa riferita al servizio di depurazione pur non essendo serviti da impianti di depurazione attivi, oppure che hanno pagato la tariffa nel periodo in cui gli impianti erano inattivi, preso atto che il periodo oggetto di rimborso è compreso fra il 16 ottobre 2003 e il 15 ottobre 2008 in quanto si applica la prescrizione quinquennale dalla data della sorpacitata sentenza della Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 2948 del Codice Civile e quindi per gli importi non dovuti ma versati al Comune dei Pordenonesi nel periodo antecedente al 16 ottobre 2003 il diritto al rimborso è caduto in prescrizione. Tutto ciò premesso è considerato, interroga, il sindaco e l'assessore competente per sapere quali siano le motivazioni che hanno portato l'amministrazione comunale a stabilire che il rimborso della tariffa di depurazione avvenga su istanza di parte e non d'ufficio, causando così ulteriori indebiti e pagamenti a carico dei cittadini. Firmato consigliere Mara Piccin. L'assessore Conficoni. Prego. Sì, eccoci qua. Tanto grazie Presidente. Una battuta per cominciare i complimenti alla consigliera Piccin che ha dimostrato del coraggio nel fare un'interrogazione che ha per oggetto dei rimborsi. a cui tra l'altro sono lieto di poter rispondere in questa sede al quesito che lei ha proposto in modo tale da poter fugare qualsiasi dubbio sull'operato dell'amministrazione comunale che ha fatto, penso di poterlo dire in tutta scienza e coscienza, quanto nelle sue possibilità per agevolare gli utenti aventi diritto al rimborso. Per prima cosa è opportuno ribadire che i canoni di depurazione sono stati indebitamente pagati dalle utenze che non potevano usufruire del servizio non perché il Comune o Idrogea hanno commesso degli errori di fatturazione di cui si devono scusare o di cui si devono giustificare ma perché la Corte Costituzionale ha proclamato l'incostituzionalità con la sentenza 335 del 2008 di una norma, in particolare l'articolo 14 della legge Galli che veniva correttamente applicato a Pordenone così come in tante altre realtà. Subito dopo la promulgazione, la pubblicazione di questa sentenza Idrogea che all'epoca gestiva la fatturazione ha sospeso, la fatturazione non ha più addebitato agli utenti non serviti dalla depurazione la quota di tariffa riferita alla depurazione si è posto il problema dei rimborsi della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione già pagata da questa particolare tipologia di utenti per un periodo compreso come correttamente ricordato nell'interrogazione tra il 16 ottobre del 2003 e il 15 ottobre del 2008. Che si sia operato nel fare questo cercando di salvaguardare l'interesse degli utenti lo dimostrano diversi passaggi, il primo secondo me molto importante è costituito dal fatto che per reperire le risorse necessarie ad effettuare questi rimborsi non abbiamo come pure la legge ci avrebbe consentito di fare deciso di aumentare le bollette pagate dagli utenti ma abbiamo deciso di utilizzare dei fondi accantonati e anche di utilizzare un dividendo straordinario distribuito dalla società partecipata proprio per poter soddisfare questo tipo di esigenza. In più per favorire la presentazione delle istanze di rimborso abbiamo promosso una massiccia campagna informativa sia consegnando degli avvisi dedicati a domicilio sia anche attraverso la bolletta del servizio idrico integrato per non parlare dei numerosi articoli sulla stampa che sono stati pubblicati dell'apertura di uno sportello apposito a cui gli utenti hanno potuto rivolgersi per chiedere delle delucidazioni alla pagina web che è stata attivata per favorire la consultazione della propria posizione. In ultimo la proroga della scadenza dei termini per la presentazione della domanda che inizialmente era stata fissata nel 31 luglio e che successivamente è stata prorogata al 20 di agosto. Quindi quello che ha profuso l'amministrazione comunale mi sento di poter dire senza timore di smentite è stato uno sforzo non solo economico ma anche organizzativo non indifferente grazie anche alla collaborazione con Idrogea. Non abbiamo operato per cercare di risparmiare risorse dalla restituzione di questi canoni che comunque verranno utilizzate a favore degli utenti in particolare per contenere la pressione fiscale ma abbiamo cercato di fare il possibile per rimborsare. Alla fine io credo che il risultato sia estremamente positivo perché abbiamo rimborsato più di 1.250.000 euro quindi attorno al 75% di quello che avevamo previsto di rimborsare alle 3.000 rotti utenze aventi diritto alla restituzione. Certamente avremmo voluto fare di meglio però non abbiamo potuto chiedere ai funzionari del Comune di non rispettare quelle che sono le normative che ci ha dettato il legislatore. In particolare nello stesso decreto del 30 settembre 2009 in cui sono individuati i parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta al secondo considerato è proprio esplicitato che considerato che la giurisprudenza della Corte dei Conti ha costantemente evidenziato la necessità di una documentata istanza da parte dell'utente per ottenere la restituzione delle somme di cui è l'articolo 8 sexies quindi persino nelle premesse del decreto c'era scritto che gli utenti dovevano presentare un'istanza motivata. È stato fatto anche dall'Associazione Nazionale Autorità Enti di Ambito quindi dall'Associazione degli Ambiti Territoriali un apposito quesito al Ministero della Tutela che ha risposto con una comunicazione dell'8 ottobre del 2010 leggo il quesito è possibile procedere con una restituzione di ufficio senza l'istanza da parte dell'utenza? La risposta al quesito del Ministero è questa la necessità dell'istanza prevista dal decreto ministeriale 30 settembre 2009 discende dalle indicazioni giurisprudenziali fornite dalla Corte dei Conti e richiamate nel preambolo del medesimo decreto come ha precisato la giurisprudenza contabile in particolare vedi Corte dei Conti senzione di controllo Morise parere numero 3 del 2009 infatti è necessaria un'espressa richiesta dell'interessato trattandosi di una fattispecie riconducibile a un indebito quindi noi in più occasioni abbiamo chiesto se era possibile procedere d'ufficio perché sarebbe stato certamente meglio per gli utenti e conforme alla nostra volontà di rimborsare tutto l'indebito ma non c'è stato possibile perché sia nelle premesse del decreto a cui comunque non abbiamo voluto credere non solo noi ma anche altri che evidentemente hanno proposto questo quesito al quale è stata data una risposta credo inequivocabile purtroppo gli utenti hanno dovuto presentare un'istanza e quest'istanza ha dovuto essere corredata da una marca da bollo anche questo in seguito a una diciamo precisa disposizione dell'agenzia delle entrate che è qui conservata agli atti la risoluzione numero 98e del 7 aprile del 2009 oggi il sistema ambiente che sta effettuando i rimborsi per i comuni di Brugnera e mi pare di Prata di Pordenone gli altri due comuni della provincia che devono rimborsare questa quota in debita della tariffa di depurazione anche il sistema ambiente sta chiedendo agli utenti di quei territori di fare domanda e di corredarla con la marca da bollo grazie grazie prego consigliere grazie signor presidente e ringrazio l'assessore per la risposta inizio subito dicendo che assessore le battute se le può tenere per lei perché io qui vengo per esplicitare il mio mandato che esattamente come il suo in numero minore di preferenze ahimè no è direttamente voluto dai cittadini e allora se un consigliere comunale di opposizione presidente io l'ho elogiata per ciò no no non mi interessa non mi interessano le battute non mi interessano i suoi elogi qui noi veniamo per fare delle domande e se le domande le facciamo le facciamo sulla base delle richieste che ci provengono dal territorio e poi come interessa la normativa che lei ha enucleato perché le diretture che quel decreto legislativo che lei ha citato è stato convertito in legge nella legge di riferimento non si cita in alcun modo in alcun modo la richiesta poi lei ha letto anche il parere va benissimo sta di fatto che l'amministrazione comunale ha risparmiato tra virgolette 250.000 euro che abbiamo visto nei precedenti equilibri di bilancio che sono rimasti nelle casse dell'amministrazione comunale anziché andare ai cittadini pochi o tanti non è importante però questo è il dato di fatto inoltre non c'era da parte mia nessuna volontà assessore di dire che l'amministrazione non avesse operato correttamente ma semplicemente di chiedere se c'era la possibilità e come mai anche perché lei deve capire che quando il cittadino viene lei si tenga le sue considerazioni che io l'ho ascoltata presidente io non voglio essere interrotta soprattutto quando mi si viene a dire e si vengono a fare le battutine iniziali io chiedo rispetto come chiunque altro come voi e come gli altri colleghi perché la sua uscita è stata veramente infelice allora il cittadino che doveva avere 25 euro di rimborso ne ha pagati 16 di marca da bollo che l'amministrazione avrebbe potuto mettere coloro che avevano più di 77 euro hanno avuto l'accredito se volevano sul conto corrente hanno pagato 5 euro se non avevano il conto presso la tesoreria allora questi erano soldi che potevano essere risparmiati dai cittadini quello che voi avete fatto lo avete fatto ai sensi di legge e poco importa perché la legge ve lo ha imposto altrimenti non l'avreste fatto e poco importa caro presidente e caro assessore ci mancava pure che aveste aumentato le bollette è evidente che avete utilizzato i dividendi vi sono anche avanzati i soldi allora allora voi avete fatto le vostre procedure i cittadini che hanno segnalato a me come a molte altre persone la difficoltà o comunque la non volontà o comunque il fastidio di aver pagato soldi che non avrebbero dovuto pagare perché si è trattato di un rimborso sul rimborso doveva essere fatta la richiesta doveva essere pagata la marca da bollo da 16 euro e in più qualora ci fosse un certo tipo di importo pure 5 euro era questo che io volevo mettere in evidenza ed era questo quello che i cittadini mi hanno segnalato e non vi era da parte mia nessun dubbio per quanto riguarda la vostra operatività ci mancherebbe altro siete un'amministrazione organizzata avete degli uffici che funzionano idrogea abbiamo visto funziona benissimo e adesso andrà anche ad investire i soldi per una nuova sede o li ha già investiti quindi che cosa dobbiamo dire di più assessore in merito a questo grazie grazie consigliera siamo alla interrogazione numero 42 sui rifiuti fuori dai cassonetti sottoscritto Francesco Ribetti presidente del gruppo consigliare PDL Popolo e Libertà Fratelli d'Italia del Consiglio Comune di Pordenone premesso che domenica 22 settembre 2014 i cassonetti interrati di via Borgo Sant'Antonio si presentavano come da fotografie allegate tale situazione si è presentata nel pieno della manifestazione Pordenone Legge che raccoglie una notevole mole di contributi pubblici anche al fine di promuovere o in ogni caso dare una bella immagine della città già in altre occasioni si è rappresentata tale situazione anche durante i giornati in cui la città ospitava eventi con un numero elevato di ospiti incontriamoci a Pordenone pare che in molte occasioni i contenitori approntati siano insufficienti o che essi necessitino di un passaggio maggiormente frequente infine non è alcun contenitore per la raccolta del verde di tal che gli abitanti della zona centrale non sanno dove riporre il rifiuto verde tutto ciò premesso il sottoscritto consigliere comunale del gruppo del PDL Fratelli d'Italia interroga il sindaco ed assessore competente per conoscere 1. se il responsabile della partecipata società addetta alla raccolta dei rifiuti abbia fornito precise indicazioni per effettuare il servizio magari con più passaggi anche più di uno in modo tale che fosse garantita la pulizia del sito durante l'arco della settimana e durante il weekend 2. se tali indicazioni siano state date soprattutto nelle giornate in cui ve notevole il numero di visitatori magari in concomitanza di un evento specifico ed in particolare se siano state date anche nel weekend del 19-21 settembre 2014 3. in caso contrario se il garantire la pulizia della città sempre auspicabile ma soprattutto in occasione in cui vi sono molteplici ospiti soprattutto nelle aree maggiormente visitate o dove si svolgono eventi se del caso anche attraverso di più di un passaggio nel corso della giornata sia tra le linee guida fornite dall'amministrazione al management della controllata al momento della nomina 4. se si ha intenzione dell'amministrazione incrementare il numero di cassonetti magari anche esterni o il numero di passaggi al fine di mantenere l'area pulita o si ritiene che la situazione vada bene così com'è 5. se si apparimenti intenzione dell'amministrazione dotare tale isola ecologica anche di un cassonetto se del caso anche esterno per i rifiuti di verde e ramaglie Francesco Ribetti Assessore Conficone prego Sì grazie Presidente grazie anche il Consigliere Ribetti per l'interrogazione che mi dà la possibilità di ribadire in quest'Aula per l'ennesima occasione la nostra soddisfazione per i complessivi risultati che derivano dal sistema di gestione dei rifiuti della città di Pordenone risultati positivi ascrivibili sia al virtuoso comportamento quotidiano da parte degli utenti che praticano correttamente la raccolta differenziata sia anche alle particolari attenzioni che vengono prestate durante le manifestazioni che anzi grazie a questa particolare sensibilità sono anche diventate non solo delle occasioni di festa ma anche dei momenti di sensibilizzazione e di promozione faccio riferimento alla Dunata Green per la quale abbiamo ricevuto anche un premio a Roma piuttosto che alla riconversione ecologica di tutte le sagre cittadine agli ecovolontari che sono presenti alla Pordenone Pedala per incentivare i ciclisti a conferire correttamente i rifiuti al Parco Galvani a Pordenone Legge dove vengono incrementate le dotazioni di contenitori a disposizione dei numerosi frequentatori del centro città certamente siamo orgogliosi soddisfatti di questi risultati che non dipendono solo dalla nostra capacità ma dall'impegno di tutti ma non perdiamo l'attenzione a migliorare abbiamo in programma di rivedere le modalità di raccolta in centro città e tra gli obiettivi che ci prefiggiamo non c'è solo quello principale del contenimento dei costi complessivi di gestione del servizio ma anche quello di una riduzione del degrado proprio perché i sacchetti blu che spesso vengono abbandonati del multimateriale fuori orario accanto ai cassonetti riteniamo che con le nuove modalità di raccolta che andremo ad introdurre possano diminuire in particolare per l'introduzione del bidone della carta gli incivili comunque cerchiamo di limitarli attraverso una continuazione di educazione di sensibilizzazione ci sono tantissime iniziative in atto non ultima anzi la principale sotto questo profilo è il controllo del territorio che svolgono gli ispettori ambientali che ha portato all'elevazione di circa 1500 sanzioni in due anni è un'attività che va sicuramente continuata e se possibile anche rafforzata proprio in occasione delle manifestazioni in modo tale che anche durante gli eventi in cui la città è maggiormente frequentata in cui queste manifestazioni sono una vetrina di promozione del territorio sia possibile andare a limitare il problema e certamente se la mia cura l'ho già fatto in realtà sensibilizzare l'amministratore o della società partecipata per cercare di aumentare l'attenzione riguardo la gestione di questi momenti in ultimo volevo precisare che per quel che riguarda la raccolta del verde in centro comunque gli utenti che hanno questa necessità si possono rivolgere in GEA per avere un servizio dedicato per cui noi in centro per scelta non abbiamo messo in contenitori del verde che rischiavano di diventare un ricettacolo delle altre tipologie di rifiuto proprio perché in centro è stata scelta per cercare di limitare i problemi di degrado la strategia di spingere ulteriormente il porta a porta anche con la plastica e la carta vuoi multimateriale vuoi mono come diventerà dal primo dicembre quindi anche per il verde in analogia è stata scelta lo stesso tipo di strategia quindi gli utenti che lo desiderano possono telefonare in GEA per attivare un servizio dedicato per questa particolare frazione di rifiuto grazie grazie prego consigliere può dichiarare se si ritiene soddisfatto grazie grazie presidente mi ritengo soddisfatto unicamente della parte finale di questa risposta perché credo che sia l'unica che ha centrato le domande in interrogazione perché va a risolvere il problema e per quanto riguarda il resto assessore francamente mi ha parlato parlandomi e su questo ci avrei ero pronto a scommetterci qualcosa parlandomi dei grandi risultati che lei ha in mente sulla nostra raccolta dei rifiuti però non centrando il problema è capitato più di una volta l'ho segnalato lei ha la sfortuna che io là purtroppo ci abito purtroppo per fortuna quindi non è che mi devo basare su cose che mi vengono riferite ma lo vedo quotidianamente allora quell'isola ecologica che avete fatto o è troppo piccola rispetto alle dimensioni della gente che va a conferire oppure semplicemente c'è tanta gente che va a conferire allora una persona dotata di un minimo di buonsenso e non mi sto riferendo chiaramente a lei ma sto riferendo a chi gestisce quel servizio dice cari signori se ci rendiamo conto che quell'isola scoppia piuttosto che prevedere un passaggio nell'arco della giornata mi sembra che lo faccia una mattina ne prevedo due uno la mattina e uno a metà pomeriggio e ciò a mio modo di vedere dovrebbe essere una direttiva impartita in maniera chiara quando quando ci sono delle manifestazioni in cui la città si tira a lustro o si vorrebbe tirare a lustro per dare una bella immagine di sé perché è inutile che andiamo a spendere centinaia e migliaia di euro di finanziamenti pubblici per far vedere Pordenone poi arrivano i messaggini Pordenone come Napoli perché me ne sono arrivati allora chiaramente ritengo che i problemi che ci sono a Pordenone di rifiuti siano assolutamente inferiori di quelli di altre zone d'Italia ho fatto esempio di Napoli però io credo che una gestione in maniera migliore in maniera più oculata di questo aspetto andrebbe fatta e visto che in quelle famose linee guida che ci ha fatto approvare il sindaco Pedrotti sul conferimento agli incarichi c'è stato ribadito più volte che il comune deve dare linee guida il comune deve dare linee guida a chi va a rappresentarlo all'interno degli enti pubblici la mia domanda era è stata data una linea guida a questo signore che va ad amministrare beh francamente l'assessore mi porta i dati che vuole portarmi lei io le dico quello che vedo con gli occhi ecco quindi sollecito l'amministrazione ad essere più attenta anche magari tramite le persone da essere nominate all'interno delle società a ciò dedicate per sensibilizzare ulteriormente poi assessore francamente io e lei ci conosciamo da parecchio tempo abbiamo giocato anche assieme con calcio assieme ecco devo essere sincero ho avuto sempre un rapporto molto franco molto franco con lei io sono rimasto male di come lei l'ho detto prima io sono il primo pronto a fare battute lo dico però io ritengo che lei stasera abbia avuto una caduta di stile veramente pesante forse stato per me o forse stato diretto a me avrei avuto reazioni ben diverse di quella della collega che a mio modo di vedere ha tenuto un comportamento a signorire ecco ci tenevo a dire proprio il rapporto che abbiamo chiamiamo io e lei grazie quindi mi dichiaro insoddisfatto grazie consigliere dunque consigliere lo perfido non c'è non lo avevo l'ho visto ma non c'è più vabbè comunque non è in aula in questo momento pertanto non possiamo affrontare la sua interrogazione eccolo qua l'abbiamo evocato bene allora interrogazione numero 43 al signor Presidente del Consiglio Comunale di Pordenone oggetto portabiciclette nuova autostazione corriere appreso d'organo di stampa che per la realizzazione di un parcheggio biciclette presso la nuova autostazione del corriere sono stati acquistati 198 portabiciclette che il progetto prevedeva che metà dei portabiciclette avrebbero dovuto essere a terra e metà sollevati da terra che una volta ricevuti questi portabiciclette sono risultati pesanti da sollevare da terra di difficile utilizzo e quindi non usufruibili secondo il progetto previsto che a causa di questa discrepanza sono necessarie delle modifiche che non è stata prevista a destinazione di risorse per l'impianto di video-sorveglianza il sottoscritto chiede all'amministrazione se corrisponde davvero quanto ha preso gli organi di stampa come sia stato definito il progetto del parcheggio e come si sia arrivata la definizione dell'attrezzatura necessaria alla realizzazione del parcheggio se era prevedibile in fase progettuale identificare l'esatta configurazione delle attrezzature necessarie quali siano state le procedure per l'acquisizione dei portabiciclette in cosa consistono le modifiche che consentiranno di utilizzare finalmente le attrezzature acquistate a quanto ammonti il costo di acquisto dei portabiciclette a quanto ammonti il costo delle modifiche e chi si farà carico della spesa aggiuntiva per quale motivo non siano state destinate le risorse per l'acquisto e realizzazione dell'impianto di video-sorveglianza pur trattandosi di parcheggio sotterraneo quale sarà l'importo o la tariffa che il gestore intende applicare per l'utilizzo del parcheggio delle biciclette firmato Emanuele Loperfido Assessore Moro Prego Allora diciamo che i portabiciclette in sé sono stati installati la scelta è stata conseguente alla realizzazione dell'impianto dell'intermodale che vedeva una struttura sotterranea che poteva essere utilizzata a questo scopo la decisione poi l'amministrazione ancora nella precedente ha deciso di installare dei portabiciclette e si è proceduto ad una gara è stata una gara procedura negoziata che ha visto partecipare tre società la società che ha vinto la gara è la City Design S.P.A. che tra l'altro aveva fornito i portabiciclette nelle stazioni di Parma e di Firenze stiamo parlando di strutture che al contrario della nostra che vede un'installazione di 97 portabiciclette per un totale di 194 posti questi portabiciclette installati a Parma e a Firenze sono mi pare 800 posti bici a Firenze e credo 412 a Parma sono dei portabiciclette che sono tutti gli effetti in grado di svolgere la funzione per cui sono stati realizzati perché non potrebbero nemmeno essere stati omologati tra l'altro prima di procedere all'acquisto si è una delegazione del nostro comune e credo sia andato a vederle anche l'assessore Conficoni è andato proprio a vedere questi portabiciclette per capire per comprendere se erano effettivamente efficienti e lo erano il problema e poi l'importo del contratto è di 40.250 euro era un'altra delle domande fatte pertanto non riteniamo che i portabiciclette così come sono stati installati non siano efficienti anzi proprio di recente dopo aver terminato l'installazione terminati i lavori dell'intermodale si è proceduto a sistemare lo scorrimento che necessita di una una sistemazione che riguarda la lo spalmare del grasso praticamente sulla parte che provoca trito così come da disposizione da indicazioni date dalla City Design i portabiciclette sono andato io personalmente a testarli proprio a seguito anche dell'articolo di stampa e sono perfettamente efficienti è vero che in una delle occasioni noi ci siamo confrontati in una occasioni in cui siamo andati a verificare i portabiciclette all'inizio siamo andati a verificarli ed era presente anche un rappresentante della di a ruota libera il quale ci faceva presente che si sarebbero potute fare anche delle migliorie ma erano semplicemente indicazioni che ci dava il signor Pellarini di a ruota libera per rendere ulteriormente più agevole ma vi garantisco che dalle prove fatte ma non potrebbe essere altrimenti altrimenti queste portabiciclette non potrebbero essere installate sono pienamente efficienti per quanto riguarda per quale motivo siano state destinate risorse d'acquisto all'impianto di videosorveglianza l'impianto di videosorveglianza di per sé è realizzato cioè nella parte sottostante cioè dove ci sono i portabiciclette esiste già l'impianto di videosorveglianza cioè ci sono installate le telecamere con i collegamenti quello che non è ancora stato installato ma che dipende dal tipo di utilizzo che verrà fatto all'interno della struttura cioè come verrà gestita la struttura è la parte che raccoglie le immagini cioè il server che è ovviamente un'attività che viene svolta che deve essere realizzata in funzione di chi gestirà la struttura però l'impianto in sé è tutto realizzato perché potrebbe essere o collegato direttamente al sistema di videosorveglianza del comune di Pordenone presso il comando di polizia municipale o avere un suo sistema autonomo per cui diciamo che l'impianto c'è a necessità solo di questa parte per quanto riguarda le tariffe non sono in grado di rispondere perché dipenderà dalla dalla società che lo gestirà se verrà gestito direttamente in house da noi o da una società esterna e lì verrà stabilita poi la tariffa in questo momento non è prevista nessuna tariffa grazie Assessore prego Consigliere Loperfido grazie sono elettrico grazie Presidente grazie Assessore grazie perché mi ha risposto non sono molto soddisfatto perché certe volte in questo Consiglio Comunale vengono smentite cose che vengono lette sulla stampa virgolettato vengono smentite cose che vengono sentite nel Consiglio Comunale precedente e quindi non si sa più a cosa credere perché adesso Assessore ho scoperto che in realtà i bidoncini del Napo le letture vengono fatte quando lei invece a verbale mi aveva detto che non erano massate realizzate mi ha detto no mi hanno detto mi hanno detto ecco la vediamo assieme la vediamo assieme detto questo detto questo ma poi in caso verrà l'occasione detto questo se io leggo sulla stampa virgolettato senza alcuna smentita virgolette la modifica precisa Giuseppe Carniello RUP dell'autostazione non dovrebbe costare molto abbiamo realizzato un prototipo che sarà recepito dall'azienda che ci ha fornito le attrezzature l'acquisto non è stato un errore perché c'era solo quello allora o non rientrava nelle caratteristiche richieste oppure una miglioria cioè non si capisce a sto punto dove è la verità se è stata fatta una miglioria o se era sbagliato quello che è stato acquistato o se non erano state date informazioni chiare come non è chiara tutta la situazione riguardante questa autostazione perché siamo a novembre le scuole sono iniziate e ancora in questo caso non sappiamo chi gestirà semplicemente il parcheggio delle biciclette e come verrà gestito se ci sarà un importo ma cosa ancora più grave ancora non capiamo se iniziamo a incassare o meno i soldi che derivano dal pedaggio delle corriere che passano e tutto questo perché ancora è tutta una mezza verità una mezza cosa fatta ma in realtà ancora non ci sono documenti ufficiali perché il collaudo ancora per esempio non l'hanno visto i dati del collaudo ancora non l'ha visto nessuno notizia di questa di questa mattina che mi è stata data quando invece però guardi signor vice sindaco io sono stufo io sono stufo sono stufo di sentirmi venire di essere rassicurato qua in consiglio comunale sulla base di dati poi allora la copia del collaudo benissimo allora poi è anche il caso di iniziare a vedere è anche il passo successivo è anche il caso di iniziare a vedere l'accordo economico l'accordo economico perché qua stiamo buttando via soldi nel senso che non stiamo incassando i soldi che dovremmo iniziare a incassare allora o questa amministrazione inizia a darsi una mossa o altrimenti continuiamo ad andare avanti dicendo ma in realtà non è propriamente così però sta di fatto che le cose non si realizzano e non si realizza l'impianto definitivo del video sorveglianza non si realizza il pedaggio cosa per la quale ogni giorno non incassiamo dei soldi che potrebbero essere molto utili per questo bilancio comunale e quindi io posso anche essere soddisfatto su quello che mi ha detto assessore posso anche essere soddisfatto sul fatto che stiamo andando avanti ma doveva essere pronto tutto quanto a settembre la scuola ormai è già arrivata a novembre abbiamo perso 60 giorni di mancati introite da parte delle corriere che passano e non riceviamo i soldi per quanto riguarda l'impianto delle biciclette abbiamo dovuto fare delle migliorie che in realtà dipendono probabilmente dagli errori che qua non si riesce ad ammettere in consiglio comunale perché no l'amministrazione Pedrotti non fa mai errori come per la situazione oh no aspetta le stavo dando una responsabilità che non aveva via nuova di corva ecco l'amministrazione di centro-sinistra non sbaglia mai quindi caro assessore non sono soddisfatto perché non credo assolutamente che sia stata una miglioria perché io credo alla prima risposta che è stata data anche a mezzo stampa che non era una questione di errore ma c'erano soltanto quelle quindi anche se l'assessore Conficoni è andato di persona magari si è andato pure in bicicletta a verificare i portabiciclette a Firenze o a Parma alla fine quelli che abbiamo ricevuto che abbiamo comprato tramite gara quindi vuol dire che ci avevamo anche pensato a chiedere di cosa avevamo bisogno abbiamo chiesto quelli e poi abbiamo visto che non andavano bene qua c'è qualcosa che non torna grazie consigliere passiamo ora all'interrogazione numero 44 quali tempi di realizzazione di Pordenone in rete le sottoscritte ai consiglieri comunali Mara Piching e Isina Peresson premesso che nell'ambito dell'iniziativa valere sul PORFERS 2007-2013 asse quarto attività 4.1.a è stato adottato con deliberazione della giunta regionale numero 1047 di data primo giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni il bando pubblicato sul BUR numero 24 in data 15 giugno 2011 per il sostegno a favore dei comuni della regione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile PISUS preso atto che il comune di Pordenone ha partecipato al bando regionale per il finanziamento degli interventi PISUS con il progetto Pordenone in rete finalizzato a valorizzare e aumentare l'attrattività dell'area urbana sia sotto l'aspetto socio-economico che quello storico culturale ed ambientale accertato che il progetto presentato dal comune Pordenone in rete si è classificato terzo in regione dopo i comuni di Tervisio e Trieste con un totale di spesa ammessa di 7.058.012,15 euro considerato che la giunta regionale ponendo in essere una riprogrammazione al POR mediante l'adesione al piano di azione e coesione PAC ha portato all'utilizzo dei finanziamenti nazionali in luogo di quelli comunitari per gli interventi PISUS assoggettandoli così al patto di stabilità interno constatato che i lavori degli interventi PISUS allo stato odierno dovendo sottostare al patto di stabilità interno saranno oggetto di ulteriori ritardi e rimodulazioni o soggetti a diluizioni nel tempo comportando così delle perdite in termini di efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi predeterminati atteso che era previsto al 31 dicembre 2014 la conclusione di interventi PISUS al 31 marzo 2015 la rendicontazione del Comune di Pordenone alla SRA delle spese sostenute per la realizzazione del PISUS e al 30 giugno 2015 l'approvazione della relazione finale della rendicontazione del Comune da parte della SRA preso atto che ad oggi non è stato cantirato nemmeno un intervento e non sono ancora state non sono ancora state trasferite le risorse dalla Regione al Comune di Pordenone interrogo il sindaco e l'assessore competente per sapere 1. qual è lo stato dell'arte del progetto Pordenone in rete 2. quando è previsto l'inizio dei lavori 3. in che tempi è prevista la sua realizzazione firmato Mara Piccin Isena Peresson prego Assessore Zille sì buonasera allora in merito alle tre domande che lei ha posto ricordo che la graduatoria definitiva del bando per l'assegnazione chiaramente di fondi PISUS è stata pubblicata il 14 di agosto di quest'anno con decreto appunto della direzione regionale delle attività produttive allo stato attuale il decreto di contributo non è ancora attivo sono invece in corso serrate riunioni sia con la struttura regionale attuatrice del PISUS ma anche con gli altri uffici regionali per definire le modalità di gestione del finanziamento e siamo in attesa a breve di poter sottoscrivere la convenzione tra regione e comune sembra che la regione voglia stringere quindi qua questo mese il massimo il prossimo di poter chiudere questa operazione tra i vari aspetti che sono stati approfonditi tra gli assegnatari del fondo PISUS era quello anche di verificare come poter spendere in relazione al patto di stabilità e qua sono in corso delle ipotesi di lavoro abbastanza interessanti ma fin quando non avremo il decreto proprio per poter superare questo aspetto anche perché la regione prevede un anticipo di circa il 35% ci potrebbero essere delle formule che sono lo studio dove il comune anticipa e poi la regione paga subito però ripeto è un qualche cosa che si sta definendo in questi giorni ma questo potrebbe essere un aspetto importante per dare ecco questo lo dico perché è in corso e quindi non ci sono secondo gli intendimenti verbali appunto della regione conseguenti si presume che le attività possano avere inizio nel 2015 perché se riusciamo a chiudere questo aspetto infatti è intenzione poi da parte della nostra amministrazione procedere subito prima con il bando per le attività economiche che riteniamo di poter dar subito risorse ai privati e al territorio e quindi i lavori gli uffici comunali stanno predisponendo tutti gli atti propedeutici all'attivazione del finanziamento e nel contempo sono in corso già in avanzata fase le varie progettazioni definitive dei progetti l'inizio dei lavori comunque è sempre legato conseguenziale alla concessione del finanziamento e quindi gara inizio del lavoro se nel 2015 si conclude voglio dire è legato anche il fine del lavoro è subordinato sempre al decreto che va a stabilire i tempi e quindi gli impegni che avrà poi ciascun comune nell'eseguire le opere il tempo massimo possiamo dire allo stato attuale per la completa rendicontazione secondo la bozza dovrebbe concludersi entro il 2019 come al suo tempo ma ripeto il tempo massimo per la rendicazione non escluso che ciò si riesca a finire prima stiamo attendendo ripeto il decreto e aspettiamo di firmare la convenzione ecco questo è lo stato dell'arte del tutto ha concluso ossessore sì bene grazie prego consigliere grazie presidente ringrazio l'assessore per la risposta della quale credo di poter dire anche a nome della collega per esso insomma sostanzialmente ci riteniamo soddisfatte lo spirito insomma di questa interrogazione ribadisco ciò che avevo anche detto non era critico ma era veramente fare il punto della situazione anche perché sul discorso del patto di stabilità assessore ho anch'io presentato un'interrogazione in regione per fare in modo insomma di sollecitare in qualche modo perché effettivamente qui bisogna riconoscere questi fondi possono essere spesi ma la complessità per la progettazione per l'utilizzo di questi fondi europei forse anche un po' di tempo si è perso a onor del vero bisogna riconoscere anche durante l'altra legislatura regionale non ho difficoltà a dire credo che credo che però sia importante come si diceva fare il punto e appunto avere questi incontri serrati quindi se ci saranno novità ci aggiorneremo e se ci saranno novità da questa parte in merito anche sarà mia cura aggiornare grazie grazie consigliere interrogazione numero 45 oggetto sulla nuova sede del giudice di pace ex biblioteca civica di piazza della motta i sottoscritti consiglieri comunali vista la legge del 21 gennaio 1991 numero 374 che pone a carico delle amministrazioni comunali l'ordine di apprestare gli uffici sede dei giudici di pace considerate le odiene preoccupanti dichiarazioni del presidente del tribunale di Pordenone in ordine alle carenze strutturali che incidono sul funzionamento della macchina giudiziaria dalla perdurante mancanza di personale alle nuove esigenze conseguenti all'aggregazione del circondario di Portogruaro che per le sopraccitate ragioni il ritardo nell'adattamento della sede in oggetto può incidere sul funzionamento del nostro tribunale un tanto premesso e ritenuti i sottoscritti consiglieri interrogano il signor sindaco di Pordenone e l'assessore competente per conoscere lo stato della vicenda in oggetto ed in particolare per sapere se vi siano le coperture finanziarie ovvero se si preveda di interessare la regione altresì lo stato quale onere contributivo Pordenone 10 ottobre 2014 Assessore Moro prego grazie presidente allora sulla questione devo purtroppo fare una premessa che è un po' lunghina ma va fatta allora la legge 391 che è stata promulgata dal re Vittorio Emanuele III nel 1941 trasferiva i comuni in servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari disponeva inoltre che cito testualmente sarà corrisposto invece dallo stato a decorre dal primo gennaio 1941 anno diciannovesimo un contributo annuo alle spese medesimi nella misura stabilita nella tabella legata alla presente legge devo dire la verità mi sono andato a vedere cercare la legge ma non ho trovato la tabella ma ha poca importanza ad oggi successivamente nel corso degli anni a seguito dell'entrata in vigore della costituzione italiana si sono iniziate a evidenziare problemi di costituzionalità di questa legge la 391 del 41 tali problemi sono resi ancora più evidenti con la riforma costituzionale del 2001 voglio ricordare gli articoli della costituzione che fanno riferimento a questo l'articolo 104 che stabilisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere e l'articolo 110 che conferma ed esplicita ancora meglio questo concetto dicendo che spetta il ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia la costituzione inoltre l'articolo 119 sancisce il principio dell'autonomia finanziaria degli enti locali di entrata e di spesa cito i comuni le province le città metropolitane le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea aggiungo sempre per chiarire che con l'entrata in vigore della legge 1034 del 71 cioè quella che ha istituito sostanzialmente i terminali amministrativi regionali il legislatore ha espressivamente posto a carico esclusivo dello Stato tutto ciò che attiene alle spese relative ai tribunali amministrativi anche quelle dei locali degli arredi e della loro manutenzione proprio in coerenza con il dettame costituzionale va anche detto però che è pur vero che la 374 del 91 cioè quella citata dagli interroganti dice gli uffici del giudice di pace sono ubicati nei locali delle preture se le costruzioni edilizie esistono esistenti lo consentono ovvero inadeguati locali apprestati dai comuni nei quali hanno sede gli uffici medesimi ai predetti comuni viene corrisposto un contributo annuo a carico dello Stato per le spese da essi sostenute ai sensi della legge 24 aprile 41 la numero 392 rispetto agli obblighi fino a qui descritti il comune di Pordenone ha sempre puntualmente ottemperato mettendo a disposizione e provvedendo alla gestione e custodia delle strutture del tribunale degli uffici ad esso collegati comprese la sede dell'archivio e della sede dei giudici di pace come previsto dalla citata legge 374 del 91 vorrei anche ricordare però per capire di che cosa parliamo la situazione economica degli ultimi 5 anni rispetto agli obblighi da parte dello Stato di contribuire così come previsto dalla legge 391 e 41 e faccio riferimento a dei dati puntuali 2009 rendi contati 1.285.000 euro incassati dallo Stato 994.000 euro rimasti a carico dell'ente 290.000 euro il 77 rotti per cento 2010 rendi contati 1.352.000 euro riscossi dallo Stato 1.046.000 euro rimasti a carico dell'ente 305.800 euro circa il 77 per cento rimborsato 2011 rendi contati 1.458.000 euro riscossi 607.000 euro rimasti a carico dell'ente 850.000 euro sono stati rimborsati sostanzialmente il 41.66% delle spese non abbiamo ancora ricevuto il saldo 2012 rendi contati 1.430.000 euro riscossi 249.826 rimasti a carico dell'ente 1.180.000 euro rimasto rimborsato il 17.47 2013 rendi contati 1.430.000 euro nessun rimborso rimasto a carico dell'ente fino ad oggi 1.430.000 euro non abbiamo ancora ovviamente rendi contato il 2014 per cui non è ma io immagino che più o meno l'importo del rendiconto sarà intorno ai 1.400.000 euro riepilogando in questi ultimi 5 anni il comune di Pordenone ha speso per spese di giustizia così come previste dalla legge dal reggio decreto 6.956.000 euro si è visto rimborsare 2.898.000 euro rimane ancora a carico dell'ente 4.058.000 euro se eliminiamo i primi due anni che ho citato cioè il 2009 e il 2010 nei quali abbiamo ricevuto i rimborsi a saldo il saldo sta a significare sostanzialmente che quanto ci ha rimborsato lo stato in quei due anni è in circa il 77% eliminiamo questi due anni e teniamoci gli altri tre il comune di Pordenone avanza dallo stato ancora 3.461.000 euro questo per dire che il comune di Pordenone ha ottemperato forse chi non ha ancora ottemperato è qualcun altro veniamo dunque al quesito a seguito dei tagli della spesa imposti dal governo a partire dal 2012 lo stesso ha proceduto alla soppressione delle sedi distaccate di alcuni tribunali e dei giudici di pace questa decisione ha comportato l'esigenza di potenziamento delle sedi rimanenti Pordenone è una di quelle che rimane quindi già nel corso degli ultimi mesi del 2013 il presidente del tribunale e l'amministrazione comunale hanno iniziato un'interlocuzione direttamente con il sindaco tra l'altro per trovare una soluzione al problema che si sarebbe creato in conseguenza delle scelte di chiusura effettuate da parte dello Stato ed è stato identificato come possibile locale altri non ne avevamo in quel momento la sede dell'ex biblioteca di Piazza della Motta tale struttura necessitava però a seguito delle esigenze di adeguamento esplicitate dal tribunale per i giudici di pace di interventi di distruzione definiti con una progettazione di massima che ammontavano a circa 500.000 euro che questa amministrazione come è evidente non era in grado di anticipare anche per questioni inerenti al patto di stabilità il sindaco si è attivato sia a livello regionale che nazionale con lo scopo di reperire le risorse necessarie ad oggi non ci risultano segni concreti di disponibilità da parte di chi la costituzione all'articolo 104 e all'articolo 110 definisce come titolare dell'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e della tutela dell'autonomia di altro potere della magistratura quindi da parte dello Stato Grazie Sessore Consigliere Dalmas farei la dichiarazione prego Bravo cioè hai fatto una ricostruzione dettagliata mi sembra però che un conto è quello che voi dichiarate alla stampa e un conto è quello che fate perché quello che fate l'avete dichiarato adesso e cioè che i famosi il famoso adeguamento ristrutturazione della biblioteca è un così una buttata giornalistica frutto di un incontro tra il sindaco e il presidente del tribunale perché di fatto intorno a questo progetto mi pare che non ci sia un becco di un quattrino questo è il concetto la legge noi non l'abbiamo citata a caso perché effettivamente mi sembra di dire che nel passaggio tra gli uffici del pretore e il giudice di pace sia assolutamente chiaro che sia compito delle amministrazioni comunali qualora qualora gli uffici del giudice di pace sono ubicati nei locali delle preture se le strutture esistenti lo consentono e qui c'è stato un diciamo una non dico una trattativa ma un lungo dialogo che penso che tutte le amministrazioni comunali che sono succedute hanno sempre avuto con gli uffici giudiziari è evidente che non sarà facile recuperare 500.000 euro però vede la sua risposta che comunque è articolata in realtà la dice lunga sull'andamento di questa amministrazione e sul non andamento di questa amministrazione perché vede il problema non sono solo i locali del giudice di pace il problema è funzionamento sono i giudici di pace qualcuno il collega sostiene il problema è un po' più complesso e riguarda un po' questa città che mi pare che stia annaspando in diversi settori e involge un altro episodio che è successo che è sempre a che fare con le vicende della giustizia e sull'assicurazione della giustizia sulla certezza della pena che investe direttamente questa città per le condizioni in cui versa la nostra struttura il nostro carcere allora io chiedo ma signor sindaco rispetto a queste questioni che non sono proprio bruscolini ma a che punto state cosa avete realizzato che cosa avete fatto io non ho visto nulla perché sulla vicenda del carcere non parlo della questione del giudice di pace perché per mettere a disposizione una struttura perché i giudici di pace possano svolgere la loro funzione penso che sia una questione di una strategia straordinaria quando i soldi li buttate dove volete e li avete messo dove volevate si tratta di stabilire se questa può essere una priorità e mi sembra che il presidente del tribunale lo abbia detto chiaramente in un articolo riportato dai giornali tutti i due giornali Gazzettino e Messaggero hanno dedicato la prima pagina sull'emergenza della giustizia che è una questione attinente all'organizzazione degli uffici allora la competenza dello Stato la conosciamo il problema è che evidentemente noi siamo la città capoluogo di questa provincia non provincia siamo la città capoluogo ancora di un qualcosa di un'entità che ha tra le sue complessità il fatto di essere la sede di un tribunale di ospitare un carcere e ospitare anche un certo tipo di ospedale ecco tutte queste cose sono le cose per le quali l'amministrazione Pedrotti è assolutamente assente completamente genuflessa rispetto ad altre scelte che vengono fatte fuori di qui allora caro signor assessore lei ha puntualmente citato una serie di competenze che mi sembra Montesquieu sull'esprit de loi la separazione dei poteri ciò che è dello Stato ciò che è del Comune ma qui siamo in una schizofrenia totale abbiamo un sindaco che rispetto al ministero agli interni che gli dice guarda che tu non puoi trascrivere i matrimoni la prima cosa che fa li trascrive sulle questioni della giustizia più piccole non siete in grado nemmeno si parla di queste cose da anni perché dal 91 l'istituzione giudice di pace correggimi ripeti se sbaglio il 91 quanti interrogazioni hai fatto su questa cosa dicembre 2010 è continuata ad andare sui giornali stiamo provvedendo stiamo facendo ma cosa state facendo avete fatto niente non avete fatto completamente niente arriverà un momento in cui ci incontreremo la questione vede ritorno al tema perché poi parleremo d'altro la questione giudice di pace è una questione secondaria non è una giustizia secondaria la questione di giudice di pace è una questione importante per la semplice ragione che i giudici di pace assolgono ad una funzione che il magistrato ordinario mai non svolge più ed è numericamente consistente allora vede queste sono le questioni sulle quali l'amministrazione comunale deve dire e agire perché altrimenti ci troviamo qui a discutere di interrogazioni e i risultati non si vedono per cui la cosiddetta complessità della città sfuma e sfumerà come sfumata la provincia magari per qualcuno no ma sostanzialmente questo è il tema cerchiamo di non perdere le cose di un certo pregio di una certa importanza che stanno avvitando la città di Pozzano grazie passiamo all'interrogazione numero 46 oggetto status impianti semaforici in città consigliere Loperfido è in aula se no devo passare all'altra ho capito ma deve essere in aula garantisce lei la presenza constatato che nelle ultime settimane in città ci sono verificati diversi casi di malfunzionamento guasti in introduzione di servizi in molteplici impianti semaforici in città tra cui incrocio via Palmanova via Gregoletti piazza Duca d'Aosta via Venezia via Montreale constatato che l'impianto di via Venezia via Montreale è rimasto privo di funzionamento per più di 24 ore causando notevoli disagi e situazioni di rischio alla viabilità cittadina verificato che in alcune situazioni l'intervento della Polizia Municipale è avvenuto dopo segnalazione telefonica da parte dei cittadini ed utenti della viabilità cittadina ritenuto con protrarsi dagli servizi o guasto senza l'adeguata temporanea assistenza possa favorire il crearsi di code lungo gli assi viari ed anche situazioni di rischio incidenti il sottoscritto chiede all'amministrazione qual è lo stato generale di grado di vitustà e di adeguamento alla normativa esistente degli impianti semaforici cittadini se in dotazione del Comune di Pordenone un impianto centralizzato in grado di individuare immediatamente ed eventualmente intervenire ogni guasto agli impianti semaforici cittadini qual è il piano di azione dell'amministrazione in caso di malfunzionamento permanente di impianto semaforico se intenzione l'amministrazione di intervenire rapidamente per la sostituzione degli impianti semaforici vetusti e per l'installazione in tutti gli impianti di lampada e risparmio energetico se sempre in tema dei semafori nella viabilità cittadina è intenzione di intervenire a breve per la disciplina dell'attraversamento pedonale di fronte alla stazione fonte notevoli ralentamenti al traffico durante le ore di punta firmato consigliere Emanuele Loperfido Assessore Zille prego io risponderò a una parte dei quesiti mentre per quanto riguarda il piano di azione lascerò l'Assessore Zille allora per quanto riguarda la domanda numero uno allora noi abbiamo degli impianti ovviamente adeguati alle norme di legge e il codice strada altrimenti non potrebbero essere presenti ci sono effettivamente tre impianti che sono datati possiamo definirli obsoleti pur essendo ovviamente a norma e sono quello di Viale Venezia e l'uscita dell'Electrolux Viale Treviso l'incrocio con Via Spezzadura e Via Panamarotte e Viale Venezia l'incrocio con Via del Troi di questi tre due verranno sostituiti i centralini entro la fine dell'anno e sostituite anche le lanterne installando lanterne a led per quanto riguarda la domanda numero due sì noi abbiamo in dotazione un centralino che controlla la quasi totalità degli impianti quelli centralizzati sono una ventina circa mi dispiace ma il numero totale non ce l'ho perché non me l'hanno segnato il tecnico è una mia carenza perché non mi sono dato a leggere questa parte e non mi sono accorto dove non c'era il totale comunque sono 20 quelli controllati al limite andremo a contarli assieme consigliere di giorno di giorno e ovviamente la centralina rileva le anomalie rileva quando ci sono dei guasti è ovvio è in grado di ripristinare se c'è una un'anomalia di tipo software ma normalmente la maggior parte dei casi sono tutte anomalie di tipo hardware e la centralina può solo rilevare e segnalare dopodiché la domanda numero 3 la lascio all'assessore Zille per quanto riguarda la 4 se intendiamo intervenire sollecitamente come dicevo prima i due impianti quello di Via Le Venezia uscita Electrus e Via Le Treviso via Spezzadure i centralini saranno sostituiti entro la fine dell'anno e l'altro ci auguriamo di riuscire ad avere le risorse per farlo entro il 2015 nel caso delle lanterne verranno sostituite già una parte sono state sostituite con lampade a led nel contratto in signa che abbiamo per l'illuminazione pubblica abbiamo anche previsto tra i vari interventi la sostituzione di 195 lanterne sostituite a led per cui diciamo che dovremo avere la quasi totalità delle lanterne entro la fine del 2015 completamente a led l'intervento inizierà con il prossimo anno inizio del prossimo anno se in tema di semafori viabilità cittadine intenzione intervenire a breve per la disciplina dell'attraversamento si diciamo che era un lavoro già preventivato lo scorso anno che per motivi di patto di stabilità non siamo riusciti ad attivare i lavori sono iniziati il 20 di ottobre per cui immagino che entro breve saranno realizzati per cui sono già iniziati i lavori per la collocazione del semaforo davanti alla stazione sono iniziati il 20 di ottobre io immagino che nell'arco di un mesetto al massimo verranno fatti perché lì ci sono problemi di infrastruttura ma non credo cioè i lavori sono già iniziati non credo che terremo aperto un cantiere per molto tempo non sono in grado di dire la data precisa sarà cura quel giorno che faremo il giro di semafori le farò sapere che è questo mi pare che per quanto mi riguarda ho già ho risposto a tutto lascio la parola all'assessore Zille guarda la domanda qual è il piano di azione dell'amministrazione sì affermativo c'è un piano che stabilisce come intervenire secondo le varie situazioni quindi per consuetudine il personale della polizia municipale interviene quando viene segnalata un mal funzionamento oppure avviene l'accertamento diretto molte segnalazioni durante l'orario di servizio sì durante il giorno arrivano direttamente al comando di polizia municipale quindi se è in orario di servizio ordinario la polizia municipale interviene subito e naturalmente secondo una scala che dopo spiegherò prioritaria di intervento sempre tenendo conto quello che stabilisce l'articolo 41 del codice della strada che ovviamente in base le varie casistiche chiaramente poi stabilisce qual è il codice di intervento se invece non c'è il personale in servizio vedi nelle ore notturne dall'1 alle 7 della mattina oppure dalle 20 alle 7 nei giorni festivi interviene su segnalazione da parte delle altre forze dell'ordine che hanno le patuglie in strada vedi i carabinieri vedi il 118 vedi la polizia e quant'altro ed è previsto che c'è una patuglia di servizio sì una patuglia diciamo è come posso dire è sempre pronta ad attivarsi c'è la reperibilità in poche parole ecco e quindi interviene questo vale non solo per i semafori ma anche per i TSO per altre esigenze che possono verificarsi durante la notte sul posto il personale della polizia municipale accerta e constata se e quale disfunzione presenta l'impianto quindi in caso di impianto spento assenza di corrente elettrica nell'area presidia l'intersezione e svolge ulteriori accettamenti di norma il distacco per quanto riguarda ulteriore e quindi si mette in contatto con il gestore dei guasti in caso di impianti con disfunzione viene messo manualmente in giallo lampeggianti per tutte le direzioni e viene chiamato il personale per la pronta disponibilità dei lavori pubblici per attivare la ditta manutentrice di norma l'impianto è già progettato per andare in lampeggio ma se ciò non avviene si attiva i vigili sono messi a conoscenza di cosa devono fare eventualmente per tentare di metterlo in lampeggio in caso invece che l'impianto da sé sia giallo lampeggiante in tutte le lezioni viene fatto un reset un vero tentativo di riavvio dell'impianto qualora avvenga ripristino il semaforo normale riparte a funzionare normalmente altrimenti viene chiamato sempre il personale di servizio dei lavori pubblici che anch'essi hanno un oro reperibile notare questo e quindi poi il tutto nei casi due e tre cioè impianto con disfuzioni o impianto lampeggianti il presidio dell'intersezione viene fatto in parte o in toto nei limiti indicati perché in questo caso c'è già la norma del codice della strada che stabilisce all'utente della strada come deve comportarsi quando il semaforo è in lampeggiante nel caso appunto che invece l'impianto sia spento a quel punto intervengono direttamente e valutano il presidio secondo l'ordine di una scala per quanto riguarda il controllo dell'impianto poi ci sono le ditte che hanno interviene la ditta insignia che interviene entro e qua c'è un protocollo entro tre ore dalla segnalazione quando c'è un codice rosso per le situazioni di imminente pericolo ma ma il reperibile è qua di Pordenone della ditta insignia mentre quella che dico mentre per quanto riguarda se c'è un codice giallo invece intervengono dopo 24 ore un codice verde quindi anche 48 ore nel caso appunto ci sia una situazione e poi invece c'è la ditta accegas che non è di Pordenone ma è di Trieste che ovviamente ha un'assistenza telefonica 24 su 24 nei giorni lavorativi interviene entro 16 ore dal momento della chiamata e nei giorni festivi prestistivi fuori dell'orello di lavoro interviene il primo giorno lavorativo successivo in poche parole se un guasto si verifica il sabato ed è un problema di accegas interviene lunedì mattina come è avvenuto anche in alcuni dei semafori di cui si è parlato prima grazie assessore prego consigliere grazie presidente grazie assessore Moro grazie assessore Zille finalmente dopo 8 anni sembra che si realizzi non c'era lei sembra che si realizzi finalmente il semaforo di fronte alla stazione quindi confidiamo che entro Natale entro Natale ci sia finalmente questo semaforo e di questo non possiamo che essere soddisfatti invece per come fa piacere per quanto avviene invece relativamente alla gestione dei semafori bisogna dire che o ottobre è stato il mese della spiga oppure ogni giorno c'era un semaforo che saltava mi scusi per la parola presidente perché ogni giorno un semaforo saltava e a un certo punto per per spizio ho provato a vedere cosa succedeva e sono rimasto all'incrocio tra via le Grigoletti e via Palmanova per vedere se interveniva qualcuno visto che il semaforo era completamente spento era completamente spento ed è un incrocio abbastanza importante ed era tra l'altro mezzogiorno quindi iniziavano a finire le scuole arrivavano tutte le persone per andare a prendere i bambini nella zona delle scuole gente che torna a casa ho chiamato i vigili e ho dovuto segnalare che il semaforo era rotto quindi un incrocio importante non ha non ha un sistema centralizzato di individuazione del guasto ed è un incrocio importante perché posso capire se questa cosa accade in un semaforo in periferia passano poche macchine allora lì si possono muoversi in base al regolamento del codice della strada però quello era pericoloso pochi giorni dopo salta il semaforo che fa da incrocio tra via Montereale e via Venezia anche lì la mala sorte vuole che accada di sabato sera e noi a Pordenone comune capoluogo ci accorgiamo che uno dei semafori più importanti della città non si può intervenire perché devono arrivare devono arrivare la Trieste che è lampeggiante devono arrivare la Trieste a metterlo a posto e loro ovviamente possono arrivare al primo giorno lavorativo disponibile senza calcolare però assessore che quell'incrocio era molto è molto importante e anche se era domenica era comunque pericoloso perché possiamo fare affidamento quanto si vuole sul codice della strada che tutti lo sappiano però un incrocio così importante dove c'è una frequenza di automobili e di utenti notevole se non è successo niente dobbiamo fare un complimento agli automobilisti pordenonesi perché troppe volte diamo per scontato che coloro i quali frequentano la strada di Pordenone siano di Pordenone e conoscono benissimo come funziona la viabilità cittadina e invece essendo capoluogo di provincia ed essendo Viale Venezia zona di passaggio per tutti i cittadini che provengono da tutte le parti della regione non è detto che tutti sappiano come funziona perfettamente quell'incrocio e quantomeno si auspicherebbe che quel semaforo venisse disciplinato in modo tale che ci possa essere un intervento urgente quindi chiederei a questa amministrazione di rivedere come viene gestita la questione dei semafori ma la sorte vuole che quel giorno tutta la forza della polizia municipale attiva in un giorno festivo fosse impiegata per la maratonina ovviamente non si possono sdoppiare ma io mi chiedo ma c'è in questo piano di azione la possibilità di fare ricorso a magari delle forze dell'ordine che possono dare un contributo che sappiano disciplinare con perizia e esperienza il traffico cittadino oppure se per caso succede durante la durata degli alpini che spero Porderone possa fare tra dieci anni saltano tre semafori non possiamo fare niente perché abbiamo tutti i vigili impegnati a controllare il traffico cittadino nessuno può controllare il semaforo arrivano 200.000 persone ma noi non possiamo intervenire perché sapete devono arrivare alla Trieste ma possono arrivare soltanto lunedì abbiamo 200.000 persone in città e cosa facciamo? Dobbiamo toccarci fino a quando non accada niente? Cioè penso che una città comune e capoluogo debba sapere gestire in modo più efficiente e più pronto il semaforo dei cittadini grazie Grazie consigliere Bene abbiamo esaurito l'ora dedicata alle interrogazioni passiamo ora alle emozioni allora dobbiamo riprendere la discussione della mozione numero 1 del 2013 che avevamo interrotto e avevamo interrotto al momento dell'intervento dell'amministrazione se non ricordo male bene pertanto adesso darò la parola all'assessore Romor e ovviamente i consiglieri potranno prenotarsi per gli interventi prego consigliere Romor grazie presidente sulla base di ciò che è stato esplicitato la volta precedente dal consigliere Bianchini in riferimento alla mozione che tratta del problema del suicidio è chiaro che la mozione ha un triplice aspetto il problema del suicidio il problema della prevenzione del suicidio e all'interno della prevenzione del suicidio arrivare anche all'analisi del disagio e in particolar modo a livello giovanile perché la mozione fa riferimento a quel evento capitato all'inizio del 2013 però io per dare l'opportunità al consiglio comunale di Pordenone di poter fare una riflessione obiettiva vorrei presentare gli ultimi dati del Dipartimento Salute Mentale DSM il dottor Fulvio Tesolin li ha presentati in un congresso e mi ha concesso mi ha dato la possibilità di mostrarli anche a voi e così potremo partire anche dall'analisi di alcuni dati per poter fare una riflessione obiettiva può farmi partire i dati sono stati presentati dieci giorni fa e raccolgono un'analisi di dieci anni dal 2003 al 2013 vedete a sinistra a Pordenone noi abbiamo un tasso di suicidio di 9,57% per 100.000 abitanti che vuol dire che abbiamo un suicidio circa ogni 10.000 abitanti vi mostro quelle più tecniche quelle che ci servono di più esiste un osservatorio del suicidio dentro il DSM composto da due medici sei infermieri professionisti un tecnico della riabilitazione e uno psicologo la prevenzione questa è una cosa importante vedete che viene fatta una prevenzione primaria una prevenzione secondaria legata a coloro che hanno tentato un suicidio e una prevenzione terziaria per coloro che hanno tentato più volte il suicidio e il suicidio tante volte non va a effetto la prima volta abbiamo dopo lo vedremo nei dati ci sono delle persone che tentano più di qualche volta noi dopo la fine il concetto nostro sarà intervenire sulla prevenzione primaria perché l'azienda sanitaria quando c'è un tentativo di suicidio tramite questo osservatorio praticamente scrive in un registro tutte le persone che hanno avuto questi problemi e fa partire un'attenzione particolare verso queste persone ecco questa è la cosa importante che già esiste la rete vedete che e si fa riferimento anche alla domanda in questa in questa mozione sulla rete di intervento vedete che già esiste con intorno all'osservatorio del dipartimento di salute mentale esiste una serie di attenzioni di istituzioni di persone di volontariato che intervengono verso queste particolari tipo di persone dall'ospedale dai medici medicina generale il carcere i vigili del fuoco il dipartimento di neuropsichiatria infantile il consultorio familiare l'associazione volontari ospedalieri dipartimento di prevenzione la caritas l'ufficio promozione della salute del dipartimento delle dipendenze con la figura del dottor Beacco la casa del volontariato il centro di ascolto la vela di sacire con presidente mitico professor Bruno Morassut la prefettura i dipartimenti di emergenza ecco su questa rete torneremo dopo per dimostrare come potrebbe essere implementata questo e sono i dati principali i tentativi e i suicidi della provincia di Pordenone dal 2003 al 2013 se voi andate a vedere l'ultima indicazione del 2013 vedete che abbiamo avuto 38 suicidi con 122 tentati suicidi sono dati importanti perché se vedete i tentativi 122 sono praticamente uno ogni tre giorni se poi fate la somma del tentativo più il suicidio avvenuto andiamo a circa 160 e andiamo a circa uno ogni due giorni e mezzo quindi è un fenomeno che è importante un fenomeno che desta una particolare attenzione soprattutto per il bisogno che queste persone dimostrano di avere e di richiedere i dati della provincia di Pordenone sono nettamente sovrapponibili ai dati nazionali quindi non c'è nessuno scostamento di questa provincia verso la nazione e c'è un trend se vedete che è in lieve aumento soprattutto arrivare nel tentativo negli anni 2007 2008 2009 2010 e anche dei suicidi avvenuti in lieve aumento i tentativi sono in dieci anni 1208 i suicidi sono 319 se andiamo più avanti vedete questa diapositiva che indica i suicidi verso i suicidi seguiti cioè coloro che hanno ritentato la seconda volta nell'ultimo 2013 di quei 38 che si sono suicidati 12 avevano già tentato prima altre volte questo vuol dire che se ci fosse stata un'attenzione maggiore c'è la patologia di mezzo quindi non è che sia così facile ma se ci fosse stata un'attenzione maggiore forse qualcosa avremmo potuto evitare se andiamo al successivo vedete che i maschi hanno una prevalenza del 75,9% rispetto alle femmine il 25% così anche quello successivo 1208 e 20 che sono quelli di prima con il numero di persone 945 ma ci sono i ripetitori che hanno tentato più volte perché il titolo è tentamen per sesso lo vedete la distribuzione qua si nota che i tentativi di suicidio sono di prevalenza maggiormente del genere femminile fino però arrivare questi ultimi anni 2011 2012 2013 che si equivalgono io mi fermerei qua e tornerei indietro sulla rete dati questi questi mi sembrava troppo un'opportunità troppo grande questi dati appena pubblicati dal Dipartimento di Salute Mentale per non farli vedere al Consiglio Comunale di Pordenone allora cos'è che ci chiede in questa mozione fa riferimento a un episodio avvenuto all'inizio del 2013 in cui una ragazza che si suicidò rimase per qualche ora sul selciato perché il giudice chiede generalmente l'intervento del medico legale per acquisire dati sufficienti da poter escludere la responsabilità dei terzi e deve arrivare il cosiddetto medico legale noi a Pordenone non abbiamo una quantità di medici legali come c'è la Udine perché c'è la scuola di specialità come c'è la Trieste perché c'è la scuola di specialità e invia tendenzialmente anche i medici specializzanti o i medici interni all'istituto di medicina legale qua fino a poco tempo fa vigeva la collaborazione tra i medici del servizio pubblico e i medici legali liberi professionisti attualmente il servizio viene garantito abbiamo chiesto espressamente all'azienda sanitaria territoriale il dottor Simon dell'azienda sanitaria territoriale ha garantito che il servizio verrà svolto dai medici legali pubblici colgo l'occasione in questo momento mi corre l'obbligo di ringraziare pubblicamente il dottor del ben perché nel secondo suicidio avvenuto pochi mesi dopo a quello che fa riferimento la mozione è intervenuto in maniera privata a un richiamo fatto da me personalmente ed è arrivato immediatamente sviluppando tutte le necessarie formalità che necessitavano cosa dobbiamo fare allora alla prima cominciamo a rispondere alla prima domanda della mozione che chiede un intervento rapido dei medici legali lo abbiamo fatto l'azienda sanitaria garantisce l'intervento immediato alla seconda domanda di fare rete abbiamo risposto in una maniera in una maniera altrettanto interessante coordinando ma però prima abbiamo chiesto cosa facciamo nel in un momento in cui non c'è un'istituzione che segue questi soprattutto nel mondo giovanile questi ragazzi allora se c'è qualcuno che ha fatto come si diceva prima che ha tentato il suicidio entra nell'osservatorio nel registro se c'è la famiglia la famiglia tendenzialmente segue i problemi del ragazzo c'è un problema all'interno della scuola e sulla strada che potrebbe essere altrettanto importante da seguire per arrivare a capire il disagio di questi ragazzi noi abbiamo anche chiesto subito dopo di alcuni presidi direttori dirigenti dei vari istituti di collaborare assieme e capire qual era il fenomeno e hanno riferito che da sempre esistono momenti dedicati come sportelli di attività curricolari e l'ascolto degli adolescenti all'interno delle scuole di ciascun istituto però con modalità e interventi diversi e i diversi differenti dell'istituto riportano poi che negli ultimi due anni però scolastici vi è una diminuzione dei finanziamenti per queste attività a livello regionale a cui precedentemente potevano accedere alcuni istituti hanno sottolineato l'importanza del centro di ascolto altri altri meno dicendo che forse già all'interno loro sviluppavano questo punto di ascolto il comune ha fatto delle attività importanti che fin dall'inizio con il progetto top e con il progetto meeting sono delle azioni che sono che vanno a integrare questo discorso della rete quindi siamo entrati assieme a questa azione organizzata con delle attività sulla strada progetto top sono degli educatori di strada che sono stati attivi fino a giugno di quest'anno e adesso avranno una collocazione diversa perché fino adesso avevamo dato per la questione amministrativa non potevamo continuare perché abbiamo dato degli incarichi diretti adesso o dovevamo fare una gara o dovevamo organizzarli pensiamo di inserire l'attività del progetto top all'interno dell'ambito in più si continua anche col progetto meeting scusate all'interno dell'ambito anche perché avete visto non è soltanto un'azione della città ma è un'azione di un'intera provincia le scuole superiori sono sede di allievi che provengono da tutta la realtà quasi provinciale quindi è logico che sia l'ambito anche interessarsi di questi problemi abbiamo fatto anche il progetto meeting con il metodo del peer educator anche da queste forme di informazioni alla pari tra ragazzi sono scaturite delle nozioni interessantissime l'ultimo che abbiamo fatto è proprio ti racconto la mia salute e venivano fuori delle momenti di difficoltà da parte di alcuni giovani che avevano il coraggio però di raccontarlo soltanto ai loro pari non c'era più la scala gerarchica dell'insegnante del titolato con il ragazzo si passavano fra di loro l'informazione del disagio uno dell'altro e tramite questo sistema di allarme si poteva eventualmente intervenire per poterli aiutare quindi già da giugno di quest'anno abbiamo istituito all'interno dell'ambito un tavolo di coordinamento a cui partecipano tutti i presidi la neuropsichiatria con la dottoressa Cacciacarro il dipartimento per le dipendenze con il dottor Beacco il consultorio con la dottoressa del PUP l'ambito con la dottoressa Galli l'Oial l'Opera Sacra Famiglia e trattano di un problema generale non possono parlare solo del suicidio ma della fragilità delle adolescenze è un tavolo di coordinamento che interviene con dei progetti specifici si riuniscono già da giugno una volta al mese e si inseriranno poi in questa rete assieme agli altri attori della rete dell'osservatorio del Dipartimento di Salute Mentale eccolo e ciò che si può dire in riferimento a quello che era emerso dalla richiesta del Consigliere Bianchini è che è interessante capire di far inserire in questa rete lo sportello di ascolto all'interno della scuola se è possibile attuarlo perché i problemi economici sono importanti ma però per lo meno se è possibile far partire questo progetto di ascolto inserire quindi anche all'interno di questa rete secondo la loro volontà che la troviamo corretta quello delle associazioni sportive per anche lì creare uno sportello di ascolto all'interno delle associazioni sportive ecco questa in sintesi è la discussione che facciamo su questa mozione e naturalmente nella terza richiesta che è stata emendata ci sentiamo di accoglierla non solo tutta la mozione ma anche questo emendamento fatto come terza domanda ho finito grazie assessore bene dichiaro aperta la discussione non dovete fare nulla voi il consigliere che poi casomai lo presenterà io l'ho distribuito poi verrà votato non dovete fare nulla prego consigliere consigliere del ben prego io ho sentito con molto interesse la relazione dell'assessore Romor per tutte le inquadramenti che ha fatto e da come risulta che c'è dentro la rete anche una rete delle istituzioni che concorrono a fare per quanto possibile la prevenzione del fenomeno dei suicidi comunque del disagio e evidentemente tutte le azioni che fanno prevenzione sono importanti perché vengono prima del disagio perché anche quello è un elemento e le sue conclusioni sono state che si sente di accogliere questa mozione io direi che a questo punto giriamo pagina cioè nel senso che le informazioni le date magari grazie se posso avere quelle diapositive e questo dibattito è stato importante anche perché dopo due anni che è stato posto sul problema ho sentito che a giugno 2014 c'è stato un ulteriore intervento dell'ambito quasi cogliendo gli auspici che erano stati fatti in quella mozione quindi mi pare che la strada sia quella giusta e potremmo eventualmente dare atto con che l'accoglimento della mozione da parte dell'amministrazione ripeto consente di andare avanti se così è come mi pare di capire mi fermo e eventualmente se dopo il nostro presidente me lo consentirà se ci sarà invece un dibattito che va verso la dichiarazione di voto riprenderò la parola per il secondo aspetto di questo che deve essere fatto comunque chiudo con la necessità che anche nella sofferenza nel dramma delle famiglie che sono colpite comunque la professione medica indipendentemente dai ruoli è stata accolta e se c'è stato quel disagio perché magari sono state più difficoltà di comunicazione che indisponibilità dei professionisti grazie consigliere consigliere Piccinato prego grazie presidente allora innanzitutto ringrazio la maggioranza i consiglieri tutti per aver portato avanti questo tipo di discorso che è assolutamente interessante di buon senso e spero possa dare anche buoni risultati ho proposto un un piccolo emendamento per evitare che succedano poi i problemi che si sono visti in altre parti d'Italia dove c'è stato qualche qui pro quo su determinate questioni quindi ho proposto un emendamento dove in questi centri d'ascolto chiedo che insomma anche ci sia la certezza che non vengano senza il consenso della famiglia ed eventualmente degli stretti interessati ci siano insomma insegnamenti di pratiche sessuali sia di un tipo che di quindi sia gay sia etero perché in questo caso si vanno a toccare questioni estremamente delicate che possono addirittura peggiorare le condizioni psicologiche di un minore almeno quanto dal mio punto di vista per questo insomma chiedo che venga fatta chiarezza in questo senso e magari scritto anche in formula migliore se ritenete il caso e insomma chiedo questo ecco grazie grazie consigliere consigliere Bonazza prego grazie signor presidente signor sindaco giunta tutta grazie all'assessore Romor che ci ha illustrato dettagliatamente i dati aggiornati condividiamo le premesse presentate dal fiume anche come partito democratico e pertanto il mio intervento vuole percorrere un attimo di nuovo i dati osservando meglio il problema e anche tornando a delle proposte per provare a risolvere questi problemi con piacere ho apprezzato i dati tirati fuori dall'ultimo intervento il 23 ottobre scorso in cui l'osservatorio appunto sui suicidi ci ha incontrato e ha portato tutti questi dati in quella sede c'era anche una persona autorevole di fama sicuramente nazionale che era il professor Maurizio Pompilli che è responsabile un po' nazionale della prevenzione dei suicidi e quindi provo a citare alcune spunti che erano venuti fuori durante quell'incontro per far capire anche meglio i consiglieri il problema il suicidio nell'ambito della salute pubblica è un grave problema che potrebbe essere in gran parte prevenuto costituisce la causa di circa un milione di morti ogni anno questo a livello mondiale con costi stimabili in milioni di euro secondo l'OMS l'organizzazione mondiale della sanità i dati statistici ci dicono che muoiono più persone a causa di suicidio che per conflitti armati di tutto il mondo e per gli incidenti automobilistici in tutte le nazioni il suicidio è attualmente tra le prime tre cause di morte nella fascia di età tra i 15 e i 34 anni infatti pur riguardando tutte le fasci di età a tutt'oggi è un fenomeno che interessa maggiormente i giovani quindi è importante che ci si impegni nella lotta contro il suicidio promuovendo la consapevolezza e migliorando gli interventi e le tecniche preventive ogni individuo può fare qualcosa per aiutare a ridurre il numero delle persone che considerano il suicidio come soluzione al loro dolore mentale la maggior parte degli individui emette chiari segnali inerenti alla loro intenzione suicida ma spesso gli altri non colgono il significato di tali messaggi oppure non sanno come rispondere alla loro richiesta d'aiuto coloro che perdono un loro caro a causa del suicidio rimangono a lungo traumatizzati e sono anch'essi a rischio di suicidio si vedeva in parte dove c'è un suicidio ci sono più o meno sei o dieci sopravvissuti si dice così che hanno sperimentato un evento traumatico di enorme portata i sopravvissuti che non si citavano prima sono candidati ad uno stress che avrà pesanti conseguenze sul funzionamento individuale relazionale sociale e lavorativo è stato evidenziato come il dolore di aver perso un caro per suicidio sia insidioso e pervasivo tanto da devastare intere famiglie con ulteriori casi di morte per tale causa la psichiatria americana considera il trauma derivante dalla perdita di un caro per suicidio un caso catastrofico come quello di un'esperienza fatta in campo di concentramento uno dei problemi più grandi legati al suicidio è lo stigma ossia un marchio che è associato a coloro che hanno tentato il suicidio o alle persone che hanno perso un caro per suicidio solitamente le persone che affrontano un lutto sono comprese e ricevono compassione nonché sostegno non si può dire lo stesso per coloro che hanno perso un caro per suicidio i sopravvissuti sono persone che si sentono colpevoli per non essere stati presenti in quel momento per non aver capito per non aver impedito per non aver chiesto aiuto per non aver visto quanti sono nella provincia di Pordenone prendo i dati 36 casi di suicidio quest'anno 122 tentativi se facciamo per 6 circa ci sono mille persone che hanno le caratteristiche dei sopravvissuti quindi le risorse in campo sono insufficienti attualmente due terzi dei suicidi non è venuto a contatto con i servizi e con le figure capaci di aiutarlo si perdono per strada vanno solo dal medico curante dicono che stanno male dicono qualcosa non si capisce si fermano a pronto soccorso e non si arriva a chi invece è un po' più competente si comprende la sfida della prevenzione del suicidio che dovrebbe essere intrapresa dalla collettività ecco i servizi sociali gli addetti alla salute mentale e tutti gli operatori che prima evidenziavamo che entrano in contatto con la popolazione generale per fornire servizi di assistenza consulenza e supporto dovrebbero essere coloro che veicolano informazioni chiare precise sul riconoscimento e sulla gestione del soggetto suicida ci sono diversi dei clienti dove spiegano le domande da fare e quali sono le frasi sentinelle che vanno distribuite a tutti a tutti gli operatori le risorse quindi dicevo sono carenti per ora si riesce solo a monitorare il problema ora riparto dall'altro fronte il disagio giovanile come si diceva sulla mozione il disagio è distante dalla nostra comprensione ed ho trovato che la dodicesima indagine nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza di telefono azzurro Eurispes fornisce una fotografia degli atteggiamenti delle idee e dei comportamenti dei ragazzi e degli adolescenti si arriva fino ai 18 anni guarda è proprio il caso che si descriveva che è scatenato l'emozione individuano le trasformazioni avvenute negli ultimi anni e colgono i più recenti trend della vita dei giovani italiani porto solo alcuni numeri per stuzzicare tanto hanno intervistato 1.400 ragazzi e 1.200 genitori per sottolineare che il primo punto di prevenzione è sicuramente la famiglia si è indagato sulla famiglia sui media sulle nuove tecnologie il tempo libero la scuola i comportamenti a rischio il bullismo e il cyberbullismo mi sono meravigliato anch'io nel leggere questi dati e ve ne cito alcuni emerge che il 20% dei ragazzi è un piercing vale a dire 1 su 5 adolescenti un minor numero di ragazzi invece è deciso di disegnare sul proprio corpo un tatuaggio sono solo il 7% sono presenti notevoli comportamenti a rischio anche dal punto di vista sanitario il 28% di questi dichiara di ubriacarsi l'8,5% dei ragazzi dichiara di essere venuto alle mani con qualcuno il 5% afferma di essere andato in giro con un coltello siamo sotto i 18 anni un significativo 12% ammette di consumare rapporti sessuali senza protezione con quello che ne consegue poi ci sono anche i lati ludici sono appassionati di sms il 54% degli intervistati invia oltre 10 sms al giorno sono attaccati alle chat e frequentano le chat da 3 a 5 volte al giorno per un buon 24% al crescere dell'età i ragazzi trascorrono meno tempo di fronte a tv e più verso cellulare computer internet si va da 1 a 2 ore di tv un 39% anche a 4 ore di tv il 3% per il cellulare si arriva a un 38% di ragazzi che adopra 4 ore al giorno il cellulare sono attaccati lì e questi sono i nostri giovani si creano dipendenze ecco quindi l'intento dell'emendamento è di considerare quanto detto e cercare di coordinare gli attori e le azioni fin qui svolte su entrambi i fronti i fattori di protezione individuali proposti dall'OMS sono i buoni rapporti familiari una buona stima di sé l'integrazione sociale per esempio attraverso lo sport come si accennava l'adesione anche a associazioni religiose circoli buoni rapporti a scuola e nel mondo del lavoro adesso provo a accennare un attimo le buone prassi come si diceva prima le buone prassi sono sicuramente la formazione trasversale dei soggetti che ruotano attorno ai ragazzi una formazione che va stimolata monitorata non occasionale ci deve essere un aggiornamento continuo per non perdere di vista i problemi che sia il disagio che sia il suicidio comunque vanno dentro lo stesso canale riporto per quanto riguarda il caso dei suicidi un'esperienza che è stata positiva nel 2004 qui a Pordenone guardate è stato fatto il protocollo d'intesa per la promozione della salute mentale e la prevenzione del suicidio che ha istituito una conferenza permanente tra prefettura e gli attori coinvolti quindi invito a tirar fuori e a unire i due propositi la mappa che abbiamo visto oggi con il vecchio protocollo tante sono state le azioni concrete che avevano proposto in quel momento e a capo di tutto c'era la prefettura è nato in quell'occasione è nato in quell'occasione l'osservatorio dei suicidi è nato in quell'occasione il ricovero per coloro che compiono il gesto sono state proposte iniziative verso la scuola i progetti giovani la formazione e il coinvolgimento delle risorse di comunità che si citavano prima ad esempio manca il club degli alcolisti anonimi che anche qui si registrano casi di suicidio tra gli alcolisti nella mappa non mi era sfuggito gli enti specifici del disagio giovanile hanno trovato molto positiva l'esperienza degli educatori di strada che si accennava l'altra volta per fare quel ponte che manca verso le istituzioni che il giovane non riesce a colmare altre presenze di educatori di strada ci sono nel quartiere sud e cercano di animare la rete sociale anche su questo fronte va dato un rilancio ne avevamo già parlato come se so riporto l'ultimo esempio positivo che si è registrato nell'ambito 6 era il monitor disagio dove hanno messo a disposizione 5 psicopedagogiste proprio in questa funzione di ascolto e consulenza verso le scuole magari si può andare a vedere come ha funzionato ecco di lavoro ce n'è tanto invito a rivalutare le esperienze fino ad oggi svolte riprendere quelle che hanno portato buoni risultati grazie per l'attenzione grazie consigliere Bonazza consigliere Daniello prego sì grazie stasera parliamo di una tematica molto importante ma altrettanto delicata sia per chi vive o ha vissuto una problematica di suicidio sia per chi lavora con queste persone in ambito di prevenzione e so che il DSM ha impegnato moltissime persone per questo lavoro ma ce ne sono poche ci sono poche infermiere professionali e medici che fanno e che seguono questo gruppo e non è facile il lavoro è pesante anche nella prevenzione di questa cosa esiste già una rete che ha mostrato lei prima assessora in questa rete però mancano due attori principali uno è la scuola e l'altra e l'altra è la famiglia le associazioni dei familiari lì non ci sono a Pordenone esistono ecco io sarei un po' dubbiosa proprio per i discorsi che ha fatto il collega Bonazza se opportuno o meno inserire le associazioni sportive perché per l'amor di Dio sono una parte importante che guardano ai ragazzi e che seguono i ragazzi in età evolutiva e soprattutto nel momento ma sono guarda caso nella fattispecie delle associazioni che non ricevono i fra virgolette il disagio o i disagiati però è importante per l'amor di Dio non leviamole ma il portare dentro uno sportello riaprire uno sportello come tanti anni fa si faceva all'interno della scuola io ho qualche dubbio intanto in merito ai soldi le scuole non hanno soldi chi paga allora se paga l'ambito venite benissimo apritele in tutte le scuole però se devono pagare se devono pagare le scuole le scuole non ce la fanno ad aprire lo sportello se devono pagare le famiglie cioè le famiglie si rivolgono ad un allo psichiatra personale se hanno il coraggio di farlo o se intercettano la problematica individuale del proprio figlio e proprio per questo dico che un servizio pubblico c'è già sia al DSM che è al consultorio per il disagio e che entra nella scuola a parlare di disagio adolescenziale quindi supportiamo in ordine e in ambito nell'ambito queste persone aumentiamo il personale diamogli più soldi diamogli più strumenti perché se c'è già è inutile creare un servizio parallelo per far entrare poi dalla stessa porta per farli uscire per poi farli rientrare da un'altra parte perché deve seguire lo psichiatra o altro l'ultimo mio dubbio è appunto crearlo all'interno della scuola cioè la scuola oggi come oggi ha bisogno di aprirsi non di chiudersi con l'autoreferenzialità e quindi benvenga la dialettica e l'apertura e il dialogo che c'è tra scuola e gli altri servizi mentre la scuola a volte a parte che non hanno neanche il tempo per chiamare queste povere insegnanti però i dirigenti devono in qualche modo trovare il raccordo con chi c'è già che fa questo servizio per non buttare via del tempo e per fare appunto prevenzione quindi io accolgo benissimo l'importanza di questa di questa mozione anzi benvengano insomma di parlare di queste problematiche in consiglio comunale però sì starei molto attenta a chiudere di nuovo e a rientrare nel circolo vizioso di quello che si faceva un tempo a scuola adesso la scuola è più è più veloce no non ha la possibilità di quindi verifichiamo anche con loro con i dirigenti stessi se ci fosse e come volessero aprire no le porte agli altri servizi dopodiché spero che l'emendamento del collega Piccinato venga discorso grazie grazie consigliere Daniello consigliere Franchin prego grazie signor Presidente no il mio volesse un intervento unicamente di riposizionare il tema su quello che era la nostra volontà cioè come discussione all'interno del fiume non era il tema che si è sviluppato molto importante importanza straordinaria ma non era quello su cui noi volevamo in qualche modo portare attenzione non era il problema del suicidio la centralità del discorso che abbiamo cercato di portare in consiglio comunale quanto un'attenzione che la città deve rivolgere il mondo giovanile un'attenzione che si può manifestare attraverso molte strade ma una di quelle che abbiamo in qualche modo noi interpretato è quella di portare al di fuori dell'istituzionalizzazione l'attenzione cioè creare strumenti attraverso cui i giovani riescono a sentire che la città è attenta ai loro bisogni non vogliamo entrare dentro dinamiche che non siamo in grado noi di capire di controllare che sono già tutte chiaramente mostrate dal nostro assessore in maniera chiarissima l'istituzione ha sicuramente tutto quanto messo in ordine tutto quanto predisposto quello che noi stavamo cercando di chiedere all'amministrazione di sensibilizzarla in questo percorso era proprio dare una dimensione di parità di mettere sullo stesso piano i ragazzi e chi li può aiutare al di fuori del mondo istituzionale questo era il senso di quello che avevamo chiesto ed era una di quelle cose che avevamo tentato di fare più volte in questo giustizio comunale di portare di far sì che l'amministrazione scegliesse come punto cardine l'attenzione al mondo giovanile mondo giovanile che si esprime attraverso l'atto estremo chiaramente del suicidio che non sono neanche emotivamente in grado di affrontare il problema ma che si esprime attraverso anche la stanchezza del sabato sera la stanchezza che porta a un eccesso di situazioni le più variabili che sono solo dalle sostanze all'alcol e anche all'affettività e anche alla capacità di morire contro un albero perché si è incapace di gestire la propria vita cioè questa è la nostra dimensione quindi non è la dimensione di chi arriva attraverso percorsi durissimi immagino per la famiglia per lui per tutti al suicidio è una dimensione che vive la città intera di attenzione a un mondo che in questo secondo il nostro punto di vista è stato in qualche modo non valorizzato non messo al centro della nostra attenzione io da padre prima che da consigliere riterrei opportuno che questa cosa venisse accettata dal consiglio comunale cioè una cosa che parte dal basso vorremmo un'azione che fosse non una idea di fornire servizi ma semplicemente di aprire la città in momenti che disegniamo quali sono quali siano per noi lo sport era fondamentale secondo noi il momento dello sport è fondamentale per chiunque abbia vissuto l'esperienza di avere un figlio dentro la sessione sportiva ha capito che ci sarà delle cose che non vanno ma il momento è straordinario cioè se c'è stato un momento di assoluta commissione di etnia in questa città è avvenuta anche attraverso lo sport negare questo vorrebbe dire negare che la socialità di questa città è passata attraverso anche queste cose quindi per questo abbiamo pensato e pensiamo che tutti quelli che lavorano dentro lo sport ci sono sensibilizzati e possono dare un grande aiuto ai nostri figli insomma questa era la sensazione che noi avevamo voluto trasmettere al Consiglio Comunale che non è una solo non è solo un'operatività l'operatività è passata come ha detto il nostro capogruppo attraverso già progetti che hanno avuto una qualche storia in questa città era per sottolineare come questo è il mondo che a noi interessa di più ed è il mondo giovanile con tutte le sue forme non con le forme estreme che arrivano a suicidio e basta purtroppo non siamo neanche in grado di affrontare secondo me in questa aula questo problema ma le altre possiamo forse dare dei segnali di attenzione grazie grazie consigliere consigliere Loperfido prego grazie presidente grazie ai colleghi del gruppo della lista del fiume sicuramente una tematica delicata e proprio perché delicata bisognerebbe valutare nei dettagli poi come andare a sviluppare questo eventuale sportello da dover creare e quindi mi trovo magari più d'accordo con quanto detto dalla collega Daniello quando dice essendoci già un tavolo a disposizione tra l'altro avendo il comune di Pordenone avendo partecipato da protagonista a diversi progetti magari è più pensabile visto che c'è questa ristrettezza di risorse di integrare quanto già esistente con la richiesta che proviene dal gruppo del fiume perché nel momento in cui davanti al prefetto del profetto della provincia di Pordenone c'erano state delle iniziative in cui si dicevano si diceva saranno assunte iniziative mirate agli obiettivi sottolencati stipule ad accordi tra scuola azienda sanitaria enti centri del volontariato e famiglie utilizzo dei centri di ascolto numeri verdi di telefoni sociali progetti giovani potenziamento di centri di aggregazione giovanile progetti giovani sostegno alla formazione di operatori capaci di osservare comprendere fornire ascolto e aiuto ai giovani incremento di azioni permanenti informazione e sensibilizzazione raccolta sistematica dei dati e diffusione degli stessi monitoraggio sull'efficacia degli interventi ampliamento della partecipazione dei giovani a iniziative di volontariato e a percorsi di responsabilità civile apprendimento di saperi come ad esempio il saper scegliere chiedere aiuto farsi degli amici e coltivarli lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune gestire e risolvere i conflitti progettare la propria vita immaginare un villaggio ideale essere parte di un tutto affrontare l'incertezza decidere creazione di proposte mirate da situazioni concrete e non generalizzate creazione di circoli virtuosi di protagonismo istituzione di osservatorio permanente sul disagio con l'obiettivo di osservare e comprendere questo è un documento stipulato da capofila ovviamente di prefettura procura della repubblica presso il tribunale di Pordenone questura comando provinciale dei carabinieri comando provinciale della guardia di finanza comando provinciale vigili del fuoco ufficio scolastico provinciale di Pordenone provincia di Pordenone comune di Pordenone ambito distrettuale urbano di Pordenone ambito distrettuale sud di Azzano Decimo ovest di Sacile San Vito al Tagliamento distrettuale nord di Maniago azienda per i servizi sanitari numero 6 Friuli Occidentale azienda ospedaliere Santa Maria degli Angeli ufficio della medicina generale centro interprovinciale servizi volontariato Caritas di Ocesana centro di ascolto per il disagio sociale associazione italiana tutela la salute mentale casa del volontariato e quindi un tavolo provinciale già ben definito in cui probabilmente con l'andare del tempo è necessario inserire anche altri attori ecco allora che essendoci già una base di partenza è forse più utile cercare di integrare le nuove esigenze emergenti inserendo magari attori che possono farsi portatori di coloro i quali sanno interpretare meglio le nuove esigenze ecco allora che da questa base si può inserire anche del personale che già a fianco al personale che già affronta quotidianamente queste tematiche chi magari sa affrontare le nuove come dire esigenze ecco allora che nel momento di risertezza e di risorse forse è proprio da definire se costituire qualcosa di nuovo utilizzare già l'esistente sfruttare al meglio le risorse e le persone che si dedicano già quotidianamente per fare in modo che si riesca ad ottenere il risultato massimo compatibilmente con quelle che sono le problematiche di oggi ovvero come sottolineato da tutti la mancanza di risorse economiche perché se abbiamo cinque persone non possiamo chiedere a queste cinque persone di affrontare un dramma che soltanto a Pordenone può coinvolgere un bacino di mille persone quindi sicuramente la tematica importante sicuramente era nata dopo quel evento in cui anche lì purtroppo la sfortuna volle che quella ragazza dovesse rimanere lì per troppo tempo e quindi ricordo che ci fu anche un po' di disagio nel dover affrontare una situazione simile per cui non c'era nessuno in grado di far portare via quella ragazza c'era questa immagine drammatica di quella ragazza per terra mentre ormai il dramma è successo ore prima però da amministratori dobbiamo dire ok noi cosa dobbiamo fare cosa abbiamo a disposizione cosa possiamo utilizzare di quello del buono esistente per fare in modo che si riesca ad evitare sempre più il ripetersi di questi fenomeni che sono fenomeni legati all'animo umano quindi difficilmente prevedibile difficilmente individuabile difficilmente come dire non è come le previsioni del tempo arriva la nuvola no ci sono non è una cosa scientifica è una cosa che bisogna individuare grazie alla sensibilità di tanti qua ci sono già tantissimi attori penso di averne contato una ventina attori che possono individuare le varie zone d'ombra è vero che nel 2007 probabilmente non erano state affrontate tutte le problematiche non erano state affrontate tutte le esigenze che questa realtà che la vita del 2014 porta con sé con una velocità tremenda ciò che magari era superfluo e non necessario notare dieci anni fa ora è fondamentale notare quello che succede su internet i messaggi la tipologia di messaggi che si scambiano i ragazzi come si scrivono i messaggi l'impatto verbale talvolta anche violento che magari ci può essere nel linguaggio dei giovani capire se è qualcosa di cui avere timore o qualcosa di cui non non doverne tenere conto ecco allora sì vediamo com'è questo tavolo se è un tavolo adeguato ai tempi se non è adeguato lo integriamo però continuiamo a utilizzarlo perché mi sembra che proprio il comune in Pordenone abbia già avuto sul proprio del territorio dei buoni risultati grazie do la parola all'amministrazione allora una mozione è stata accolta prego una mozione è stata accolta sì prego che l'assessore chiede di poter intervenire prima delle dichiarazioni di voto volevo dire volevo dire che alla consegnere daniele per i suggerimenti che ci ha dato interessanti che la scuola è già inserita nella rete a pieno effetto forse non abbiamo inserito e questo lo possiamo cogliere come suggerimento le associazioni dei familiari genitori genitori dei genitori nella rete se c'è la necessità di intervento per quanto riguarda poi volevo dire che viene fatta allora attenzione viene fatta prevenzione primaria a noi a noi a noi non interessa la prevenzione cioè non interessa noi siamo più coinvolti nella prevenzione primaria non nella prevenzione secondaria cioè noi dobbiamo arrivare prima che succeda il il fatto e quindi il problema di ascolto è importante arrivare a capire quali sono le zone grilletto quali sono i momenti delicati per poter intervenire all'amico franchin sì era chiaro tre l'ho detto in partenza tre grossi nodi suicidio prevenzione e disagio la terza parte che è quella che il fiume ha espresso è una necessità ancora in più dimostrata da quello che potrebbe derivare se questo non fosse applicato quindi se si fa l'inverso se si parte dal disagio e non lo si corregge si può arrivare a una situazione molto delicata che può arrivare a sfociare nella fase estrema che è quella del suicidio quindi se lo spostiamo il rapporto rimane sempre quello per il consigliere Loperfido l'inserimento nella rete è interessante quello che ha detto ma è anche logico il mondo evolve e ci sono delle problematiche nuove ci sono dei tecnici formati e dei tecnici che dovranno essere informati e formati successivamente e questi dovranno intervenire all'interno della della rete per quanto riguarda l'emendamento della Lega Nord di Riccardo Piccinato io mi sento di non accogliere lo metto a votazione tanto lo spiego perché tante volte proprio nella minore età uno dei problemi del suicidio potrebbero essere i propri problemi sessuali per cui ma è tiaffettività io non vi ho mostrato le ulteriori diapositive che dimostravano che una delle cause proprio del suicidio erano le sindrome affettive le sindrome affettive era la barra più alta le sindrome affettive che va nel grande capitolo che comprende questa piccola parte di cui si vuole parlare bene allora scusate 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 ho capito deve fare ancora un intervento no allora se ho capito l'amministrazione accoglie la mozione così come emendata però c'è l'emendamento della Lega Nord in quale l'emendamento va ad emendare l'emendamento presentato dalla maggioranza perciò dobbiamo mettere in votazione l'emendamento appiccinato e dopo in base all'esito secondo me l'amministrazione dichiarerà alla fine se accoglierlo o meno perché poi viene modificato il contenuto visto che ha respinto l'emendamento appiccinato prego prego consiglio appiccinato come chiarimento un attimo l'intenzione dell'emendamento è solo per evitare che vengano fatti insegnamenti di atti sessuali espliciti di qualsiasi tipo scusate scusate siccome sono già avvenuti casi simili in Italia quindi non è la funzione di un centro d'ascolto qui è giusto per tutelarci da questo punto di vista un centro di ascolto deve ascoltare a piano ci sono le dichiarazioni di voto potete intervenire in quella sede un attimo il centro di ascolto la funzione dal mio punto di vista è di ascolto io metto la tutela e dico non deve esserci insegnamento da quel punto di vista lì punto questo è il senso dell'emendamento grazie quindi non c'entra il discorso che ha fatto l'assessore per questo dico va bene scusate allora adesso dichiaro aperte dichiarazioni di voto sull'emendamento della Lega chi vuole intervenire deve iscriversi eh sì l'emendamento mettiamo in votazione allora l'assessore Romor credo sia rimasto acceso inutilmente così è Coloni prego allora parlo per spiegare la motivazione per cui questo emendamento deve essere respinto nel momento in cui si istituisce un centro d'ascolto si ascolta tutto ciò che un giovane uno studente anche un meno giovane naturalmente ma a noi interessano come ha detto prima il consigliere Franchini soprattutto questa fascia dai 14 18 anni anche oltre ma insomma la fase preadolescenziale adolescenziale nel momento in cui si pongono dei vincoli cioè voglio dire cade il principio di come dire ascoltare appunto quello che uno studente un giovane un lavoratore o comunque uno lavoratore o no perché a questa età sicuramente non si lavora ma comunque uno un adolescente ha da dire la cosa è come dire nel senso che tutto il discorso che abbiamo fatto fino adesso cade nel momento in cui noi approvassimo questo tipo di ammendamento cioè una contraddizione in termini limitare di fatto l'ambito di intervento educativo a dei campi piuttosto che ad altri va di per sé a come dire inficiare tutto il beneficio che si potrebbe ottenere da questo tipo di intervento grazie consigliere Piccin prego grazie presidente ma è vero è ben vero che questa sera quando abbiamo affrontato questa mozione siamo andati anche un po' oltre rispetto all'argomento stretto della mozione perché ha fatto bene il collega Frank King a richiamare un po' a ritirare le fila perché il problema era chiaro e si doveva andare a risolvere o comunque a fare un intervento relativamente a quel problema poi chiaramente questo è uno di quegli argomenti che quando apre il dibattito si presta a dire insomma di tutto di più io intervengo sull'emendamento del collega Piccinato visto che è rimasto solo questo ai voti chiedendo sostanzialmente di ritirarlo questo emendamento perché credo è buona l'intenzione del collega Piccinato però a mio modo di vedere non c'entra nulla qui il discorso relativo all'insegnamento rispetto vedo dei sorrisi ma non c'è nulla collega Salvador di cui sorridere presidente anche perché come ben lei sa perché legge più attentamente di me le crone che io non faccio parte del movimento politico non più rispetto a quello invece a quale appare io vedo sono le donne sono così sono così e rispetto a quello con mio dispiacere ma insomma io non appartengo più alla Lega Nord per cui mi sento libera di dire ciò che penso fino in fondo quindi dicevo dicevo che ma no cosa c'entra no dicevo che secondo me l'intenzione del collega Piccinato è un'intenzione giusta ma è collocata nel luogo sbagliato perché qui si parla di centro di ascolto e non si parla ma glielo ho detto lo dico adesso a microfono per spiegare il mio voto in difformità ma glielo ho anticipato prima quindi non c'è nulla di nuovo quindi Riccardo magari secondo me poi dopo vedrai tu come fare sarebbe opportuno magari presentare una tua mozione direttamente sull'argomento e aprire il dibattito su questo aspetto ma qui rischi a mio modo di vedere di farti bocciare un emendamento che ha buone intenzioni ma che non c'entra nulla con la mozione che discutiamo grazie ritiralo grazie guarda che lo ritira no consiglio Bianchini no perché ha già fatto la dichiarazione di voto devo fare qualcosa no che possa che si possa che si possa votare sicuramente ma insieme a dichiarazione di voto adesso facciamo dichiarazione di voto su che cosa su tutto su tutti gli emendamenti consiglio Bianchini vuole intervenire sulla dichiarazione di voto per quanto riguarda l'emendamento presentato alla maggioranza che viene accolto dall'amministrazione lui vuole che venga messo in votazione siamo sul punto emendamento Lega Nord bene poi passeremo alle dichiarazioni di voto per quanto riguarda ho capito scusate un attimo ci stiamo devo chiedere ci stiamo un po' incartando perché se non passa il primo emendamento cade anche il secondo perciò che facciamo andiamo avanti con la dichiarazione di voto e poi mettiamo in votazione cosa prima quello della maggioranza e poi quello della ma quale votiamo prima di tutti quello della Lega l'altro l'ha già dichiarato accolto no ma ha chiesto la votazione ma quale di noi votiamo prima secondo me quella Lega Nord ok allora si vota scusate va bene così si vota prima l'emendamento Lega Nord pertanto siamo dichiarazioni di voto prego date la parola al consigliere Piccinato allora raccolgo l'invito della consigliera Piccin ritiro l'emendamento presenterò mozione a riguardo prossimamente grazie ok bene va bene allora viene ritirato l'emendamento pertanto non lo votiamo consigliere Bianchini vuole sempre far votare l'emendamento ah vuole votare mozione così come è emendata va bene e facoltà dei presentatori chiedere la votazione anche se viene accolta lo prevede il regolamento va bene allora a questo punto io direi passiamo di nuovo alla dichiarazione di voto per quanto riguarda la mozione così come è emendata perché la verrà messa in votazione ovviamente le dichiarazioni di voto sono previste una per gruppo consigliere lo perfido prego grazie presidente assessore visto che è logico e anticipo che ci astarremo perché il tema è sicuramente importante e bisogna destinare e dedicare la massima attenzione ma visto che il comune di Pordenone in quanto il comune capofila dell'ambito distrettuale ha sottoscritto un documento 4 ottobre 2007 quindi lei era già in consiglio comunale forse era anche assessore anzi no era presidente del consiglio il comune di Pordenone ha firmato un atto in cui dice anzi termina atteso che gli indirizzi e le proposte della conferenza permanente sul disagio mentale rischio suicidario sono da considerare bisogni sociosanitari prioritari essi andranno recepiti nelle proposte dei piani di zona comuni capofila degli ambiti distrettuali e dei piani aziendali territoriali dell'azienda numero 6 i soggetti aderenti al presente protocollo si impegnano a designare i propri referenti e da partecipare a riunioni periodiche e da tenersi almeno due volte l'anno finalizzata la verifica dell'applicazione del protocollo e dalle eventuali modifiche e integrazioni anche in vista della sua estensione ad altri possibili soggetti istituzionali e lo ripeto finalizzata la verifica dell'applicazione del protocollo quello che il comune di Pordenone ha firmato e dalle eventuali modifiche ed integrazioni anche in vista della sua estensione ad altri possibili soggetti istituzionali è logico quindi visto che è logico mi premurerei di provvedere a integrare quanto già esistente in quanto comune capofila no allora siccome mi è stato risposto semplicemente è logico io faccio notare che altrimenti è altrettanto logico doversi attivare per integrare ciò che è già stato firmato dal comune di Pordenone quindi un documento già esistente quindi lei in quanto assessore dovrebbe provvedere a recepire tutto quello che è stato discusso qua in consiglio comunale ed integrare sulla base di quello che è già esistente grazie consigliere Bianchini prego grazie presidente consigliere Ruperfido proprio questo è il nostro ragionamento ovviamente sottoscrivendo tutto quanto detto dai consiglieri Franchin e Collaoni sul ragionamento fatto e arrivando all'ultimo intervento è proprio questo l'obiettivo cioè c'è questo tavolo provinciale che è attivo dal 2007 e in questo momento il fiume assieme alla sua maggioranza chiede al consiglio comunale di dare degli indirizzi in questo caso concreti anche che l'amministrazione deve portare poi ad esempio anche in questo tavolo e poi magari crearli anche da sé quindi non vedo l'incompatibilità in questo caso e quindi l'astensione da parte sua tanto meno vedo il voto contrario da parte di qualcun altro se ce ne sarà anzi io auspico che non ci siano voti contrari e per questo questa confusione questo qui per qua che lei in questo momento solleva sinceramente non lo vedo cioè non è un atto politico io cerco di con forza in questo momento di chiarirlo non è un atto politico il comune fa la provincia fa e l'azienda sanitaria fa altro ma è una la nostra mozione è stata indirizzata nel senso di dire diamo un contributo per questo su questo tema spero di averlo chiarito l'ultimo passaggio si dice questo dice tre passaggi allora rispiego cosa dice la mozione finalmente nel finale intanto ho solo un minuto rubo solo un minuto al centro i giovani proprio questo noi dobbiamo modificare la vita sociale non dobbiamo modificare come qualcuno qui ha sollevato la vita sociale degli adolescenti non è questo l'obiettivo l'obiettivo è di di offrire strumenti di per autonomamente contrastare le insidie che portano al disagio e cioè andare a toccare sensibilizzare adulti di riferimento della città attraverso le modalità che l'istituzione in questo in questo momento crea nelle quali noi abbiamo identificato i tre progetti cioè il progetto degli educatori di strada e cioè l'eventuale possibilità dello sportello d'ascolto all'interno delle scuole e dei corsi di formazione per docenti e allenatori sportivi quindi la confusione che nasce poi da mozione secondo me completamente sbagliata del consigliere ma che poi ci spiegherà in una futura mozione insomma è piccinato nella come posso dire nella confusione generale che purtroppo in quest'ultimo momento si sta creando in torno di questa mozione io spero che venga dissolta velocemente e si capisca che l'obiettivo non è dire il comune ha fatto ma è dare una nostra proposta come consiglio comunale all'amministrazione che poi nei tavoli disegnati anche quello provinciale porti una una cosa concreta una proposta concreta tanto più se il comune lo fa anche autonomamente come poi abbiamo chiesto abbiamo chiesto noi grazie consigliere consigliere del ben prego io ritorno al buon senso che ha usato l'assessore all'inizio che dice quello che è stato proposto serve per migliorare continuamente la presenza del comune specialmente nella parte della prevenzione primaria è stato fatto insieme ad altre istituzioni abbiamo dei dati qua dentro che ci dimostra che non siamo molto fuori dall'Italia e per me questo poteva essere sufficiente perché se l'assessore dice non smentito dalla giunta che quello è nei fatti quello che ha operato negli ultimi mesi io mi sarei aspettato un giudizio di apprezzamento perché poi qual è il significato politico di una mozione che il consiglio in qualche modo vuol far fare alla giunta qualcosa che la giunta quasi quasi tentenna in altri termini in altri termini la mozione è uno strumento che di solito hanno le minoranze per stimolare un dibattito che metta dentro qualcosa che non è sul programma dell'amministrazione infatti l'articolo 68 del regolamento è in questo tempo anche perché poi in qualche modo si gioca in maniera diciamo kafkiana io maggioranza mi presento una mozione che testualmente è stato detto a te giunta è espressione della maggioranza ti dico di fare e questo è un argomento un po' strano che la maggioranza si proponga a mozioni e quando la giunta conferma che è su quella linea chiede anche un voto a quello del consiglio comunale quindi non siamo in un buon funzionamento di quello che è l'attività del consiglio comunale perché questa attività questa attività che l'amministrazione ha già lo dico io che sono minoranza questa amministrazione che ha già messo in atto tendenze azioni profili dichiarazioni storia impegno programma che andava in questo senso per me è ridondante andare ad un voto su una mozione che è in linea con quello che sta facendo la maggioranza se così non è portiamo fuori il problema diciamo perché il fiume dice al suo assessore che è del fiume come deve comportarsi e allora e allora e allora parliamo dei problemi che possono essere fatti se se questo che poteva essere un argomento se questo poteva essere un argomento importante di informazione di informazione importante nel quale l'assessore poteva trovare un riscontro e anche una funzione informativa nella sede propria di questo che è la commissione perché questo per me era anche un utilizzo corretto del tempo che abbiamo nel consiglio comunale io approvo quello che è stato fatto non dico che in questi due anni in questi due anni l'azienda sanitaria per quanto riguarda la reprendita del medico è stata poco vicino al comune abbiamo supplito perché un terzo di quei casi l'ho visto io ovviamente senza remunerazione perché l'azienda sanitaria non ha ancora predisposto i servizi di pronta disponibilità ma ripeto sul resto io ho colto linea e sintonia di quello che ha detto l'assessore che il consiglio comunale voti per dire all'assessore fa quelle cose mi sembra una situazione che l'assessore che già si è messo in questo termine non dovrebbe per dire accogliere il premio ha già detto da che pasta è questo è quello che volevo dire grazie consigliere consigliere Daniello prego Gesù benedetto eh sì è vero è un megabufo allora dichiarazione di voto mi asterrò in base a tutto quello che ha detto già il collega Loperfido ahimè oggi dico due cose un po' vabbè e per il fatto che la prefettura e il comune di Pordenone avete firmato un protocollo in cui c'è l'area scuola facciamo i bussolotti sempre all'italiana e mi sono più bravo di ti e ti se sono più bravo di me cioè andate in prefettura e dite benissimo diamo gambe a questo protocollo invece di riunirvi due volte all'anno biniuronette 4 date i soldi alle scuole date i soldi all'ambito assegnate strumenti eh cioè non ha senso non ha senso perché nel punto nell'articolo 3 l'avete firmato eh c'è scritto istituzione del centro ascolto all'interno delle scuole e noi gli diamo a dire sì fatti il centro ascolto all'interno delle scuole ma mi sembra un idio ma ma eh non ci sono perché non ci sono i soldi bianchini diciamo la verità e questo cosa vogliamo fare il centro ascolto privato benissimo non ci sto non ci sto allora ti voterò contro grazie consigliere Daniello silenzio consigliere dal mass faccia il pompiere mi scusi non ho capito io volevo dire che difficilmente sono d'accordo con del ben e non è per ragioni ideologiche di schieramento però sono assolutamente d'accordo con lui voi avete e me lo dico al capogruppo del qual è il partito che governa qui il PD o la lista Bolzonello non ho mai capito la differenza tu sei lista Bolzonello quindi tu governi e comandi e il dottor del ben ha semplicemente riportato un po' di buonsenso in questa allucinante parata la quale abbiamo assistito in ordine ad un tema delicatissimo trattato in modo superficiale e volgare trattato in modo volgare con una semplificazione vergognosa io sono stato zitto e ho ascoltato tutti quanti in modo volgare in modo volgare in modo volgare perché non è un tema che si può affrontare in questi in questo modo in questo consesso sulla base di una mozione allora no mi scusi un attimo scusi un attimo mi scusi un attimo mi scusi un attimo Bianchini mi scusi un secondo allora io ho capito dal l'intervento suo prima qual era mi scusi qual era il senso di questa mozione e l'ho spiegato in modo molto chiaramente anche in un certo senso convincendomi della bontà dell'iniziativa questa mozione è stata scritta un po' sull'evento insomma purtroppo drammatico che viene citato nella premessa ed è una mozione nella quale da un lato io guardi sindaco se fossi in lei leggerei la mozione perché dice impegna il sindaco nella sua veste di massima autorità sanitaria locale a convocare l'autorità giudiziale sanitaria perché si facciano davvero garanti ma come si fa a scrivere davvero garanti scusatemi vuol dire che sono garanti per finta no giusto Giannelli abbiamo commentato prima vuol dire che oggi sono garanti per finta e quindi il consiglio comunale delibera anzi con la forza dei numeri e con la forza del partito di governo che vuole assolutamente il voto su questa cosa e vuoi anche il voto su questa cosa per renderti davvero garante tu esponi il tuo sindaco ad una sciocchezza di questo tipo per rendere il sindaco davvero garante vuol dire che oggi non lo è vuol dire che oggi è garante per finta vuol dire che il protocollo di cui abbiamo parlato che ha citato fuori il valente lo perfido e purtroppo io ho due mezzi cognomi lui ha un cognome no il valente lo perfido insomma allora vuol dire vuol dire che qui insomma assessore ma cioè voi vi state dando non dico la zappa sui piedi però è la stessa vostra maggioranza che vi dice quello che non state facendo questa è una mozione che ci avete rubato evidentemente perché avremmo dovuto presentare noi e quindi non potremmo che essere favorevoli prima di tutto saremmo favorevoli caro Bianchi per una ragione molto semplice che non serviva a chiedere il voto su questa cosa perché ce l'avevi già in tasca e la portavi a casa e non saremmo intervenuti hai voluto chiedere e tu sei e tu quando dai le spiegazioni delle cose purtroppo ci indurresti a votare contro quello che dici ma non lo facciamo non lo facciamo e allora il gruppo di Forza Italia siccome questa mozione sarà assolutamente una mozione che testimonia che il partito di maggioranza di questo comune dice che l'amministrazione comunale è completamente inadeguata rispetto ai problemi che ha perché gli dice al suo sindaco di essere colui che davvero sia garante e quindi nella lingua italiana vuol dire che oggi non lo è questi sono i concetti caro signore quindi caro Bianchin prima di chiedere il voto pensaci su e noi voteremo a favore proprio perché questa è una mozione che noi condividiamo ma dai grazie consigliere Dalmas consigliere Bonazza prego allora visto che anche Forza Italia ha espresso un parere favorevole io invito tutti i consiglieri a riflettere un attimo perché con questa situazione economica il nostro assessore deve in qualche modo gestire il suo budget e muoverlo la maggioranza partito democratico e lista Borzonello e vivo Pordenone invita quindi indirizza questo è un ruolo questo è il ruolo di noi consiglieri ragazzi che cosa facciamo indirizziamo volete fare una proposta voi? fate la proposta voi facciamo una proposta noi qualcuno deve partire siccome c'è tutta la condivisione che c'è io dico bene anche il partito democratico vota favorevole a questa mozione con l'emendamento rilego un'altra cosa voglio voglio ascoltare anche il consigliere Loperfido il consigliere Loperfido giustamente riporta questo protocollo che avevo citato anch'io in realtà il protocollo è fermo cioè nel tempo le cose rallentano sono da liare da riprendere in mano io dico prendiamo il meglio di quell'esperienza lo ripeto e di fatti qua nella seconda parte che che volevamo fare l'emendamento che abbiamo fatto l'emendamento di integrazione si diceva tutto quello che abbiamo già detto anche quello che ha detto la consigliera Daniello si impegna il sindaco la giunta a realizzare azioni concrete per creare rete tra politiche sociali del comune ed altre istituzioni quindi anche la prefettura azienda sanitaria e qua c'è proprio l'osservatorio suicidi il consultorio la neuropsichiatria infantile il dipartimento salute mentale il dipartimento di prevenzione gli istituti scolastici e associazioni sportive di volontariato per ascoltare intercettare i disagi dei giovani ed adulti guardando ad esempio virtuosi quindi avanti tutta grazie grazie consigliere Bonazza consigliere Freschi prego grazie presidente soltanto per confermare il nostro solo per confermare dicevo l'ok a questa a questa mozione ecco penso che questa sede si sia svolto un dibattito interessante attorno a un argomento estremamente estremamente delicato e le schermaglie dell'ultimo minuto non ororano il contenuto e l'apporto dato dai tanti consiglieri a questo dibattito per cui io richiamo un po' tutti così all'attenzione che se siamo convinti di ciò che abbiamo detto e di ciò che abbiamo sostenuto al di là delle posizioni e delle schermaglie come dicevo prima dobbiamo incentrare la nostra attenzione su quello che è il lato debole della vicenda cioè sul lato del disagio e che questo va in qualche modo intercettato e tutti gli strumenti che possono essere messi a disposizione per intercettare questo disagio vanno messi in pratica per cui io penso che abbia fatto bene da un lato anche il consigliere Loperfido a ricordare il documento che è stato fatto nel 2007 se non sbaglio e che va opportunamente integrato ma è stato anche integrato direi dalla discussione e dagli apporti che sono venuti che sono venuti questa sera da quanto anche l'assessore ci ha detto per cui noi dobbiamo stare attenti un po' tutti a quello che è l'obiettivo finale a quello che è l'indirizzo che vogliamo raggiungere e dobbiamo andare oltre a quelle che possono essere le differenziazioni che in qualche modo ci caratterizzano e con questo spirito cioè il fatto di mettere i giovani soprattutto al centro della nostra attenzione giovani che sappiamo essere in difficoltà su vari fronti e continuamente esposti a problematiche crescenti che deve andare la nostra attenta e continua attenzione per cui anche questo documento l'approvazione di questo documento è un passo per riconoscere che la nostra attenzione è alta nei loro confronti e non solo nei confronti dei giovani perché purtroppo il disagio che porta determinate soluzioni non è solo espresso e circoscritto nell'ambito giovanile ma purtroppo è spalmato su ogni fascia di età per cui bisogna tenere attenti anche gli occhi su altri fronti grazie grazie consigliere Freschi consigliere Piccinato grazie presidente innanzitutto mi dispiace non aver sentito stasera il neocandidato sindaco del fiume Salvador in quanto sarebbe stato importante ah sì no 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 sindaco abbiamo già capito che questa è la prima la prima mossa per muoversi insomma in quella direzione perché evidentemente andare chiedere il voto questa sera evidentemente significa marcare la posizione ed esporre la lista il fiume a prendere il possesso della scena politica all'interno della città quindi in maniera così autorevole per impallinare il già precario Pedrotti no dicevo che andare al voto a questo tipo di mozione quando era già stata accolta non c'erano state così grandi perplessità che invece poi si sono manifestate trovo che sia assolutamente inopportuno perché si è dimostrato grazie al consigliere Loperfido che ha carta alla mano trovato le incongruenze con quello che è già un lavoro che c'è all'opera e che quindi va a costituire un doppione o comunque delle problematiche di questo tipo trovo assolutamente inopportuno questo voto e che anzi non si trovi quell'intesa con quel protocollo che è già stato siglato ecco che allora sarebbe più il caso dal mio punto di vista che si ritirasse da questo voto e si vada a migliorare il documento togliendo quelle che sono le strutture che sono state ravvisate per questo io mi asterò anche se il tema è estremamente interessante e ringrazio i proponenti per averlo portato all'ordine del giorno però dico anche che dal mio punto di vista personale riguardo alle parole dell'assessore in merito al mio ammendamento mi spiace che abbia travisato e che comunque non abbia puntualmente risposto a quello che insomma era la mia domanda ma ci sarà modo in un'altra sede grazie e con più attenzione grazie consigliere consigliere Cardin prego beh innanzitutto mi dichiaro profondamente offesa con il consigliere Piccinato che mi ha escluso dal novero dei candidati sindaco pur essendo io infinitamente più titolata del consigliere Salvador a prescindere da questo chiaramente prendo la parola unicamente per esprimere quello che sarà il nostro voto a favore è chiaro che ci deve essere un ragionamento di tipo generale credo che la maggioranza volesse sollecitare un dibattito su un tema molto importante ed è un dibattito che all'inizio è stato anche molto interessante l'ho seguito perché tocca degli argomenti e delle corde molto importanti l'ultima ora è stata dedicata alle solite schermaglie che francamente potevano essere anche risparmiate è chiaro che ci sono stati probabilmente atteggiamenti dall'una parte e dall'altra che magari potevano essere ricomposti anch'io ritengo che forse l'amministrazione avendo deciso di accogliere la mozione poteva tutto sommato sì essere risparmiato il voto però insomma qualche volta uno decide di far votare una mozione perché ha piacere di vedere chi effettivamente condivide un certo percorso le letture che possono essere date sono sempre molteplici come dicevo è evidente che questa mozione sollecita un dibattito che poteva essere anche molto più ampio poteva per esempio riguardare anche lo spostamento di risorse dagli ospedali al territorio perché comunque la spesa ospedaliera continua a essere infinitamente più alta della spesa sul territorio abbiamo soltanto 23 persone nel reparto dipendenze quindi è chiaro insomma che le sollecitazioni vanno bene ma ci deve essere una rivisitazione complessiva della sanità e anche di altri di altri interventi che possono essere fatti detto questo comunque è evidente che il tema era molto importante ringraziamo i consiglieri che hanno voluto portare il dibattito in consiglio comunale anche se è evidente che fare delle emozioni da parte della maggioranza può non essere semplice proprio perché si espongono a critiche come in effetti hanno avuto relativamente al fatto che uno sollecita la sua maggioranza ad agire in un certo in un certo modo però insomma qualche volta anche questo può essere fatto per focalizzare l'attenzione su temi che si ritengono importanti quindi io volevo soltanto anticipare quello che sarà il voto favorevole alla mozione da parte della lista civica il ponte grazie consigliere Piccin grazie presidente no non credo che mi candiderò a sindaco di questa città non credo proprio comunque visto che ci sono già tanti candidati è bene è bene dare una mano a chi magari ha più energia da spendere battute a parte prendo la parola presidente per fare dichiarazione di voto in difformità così come consentito dal regolamento e nel dire che voterò a favore di questa mozione e gli impegni che vengono come dire rappresentati da questa mozione sono impegni condivisibili anche se concordo anch'io con quanto anticipato il collega Dalmas insomma non è che ci dobbiamo fare davvero garanti ma intendiamo sostanzialmente porre l'attenzione su questo tema importante a seguito di quella vicenda che ho già avuto modo di citare prima quindi credo che la reperibilità del medico legale sia importante l'organizzazione delle reti di ascolto lo siano altrettanto e quindi ne condivido lo spirito anche se insomma sui contenuti specifici forse qualche cosa da ridire ci sarebbe dico che però la richiesta di votazione mi è parsa come dire abbastanza superflua diciamo così non in senso negativo collega Bianchini ma insomma mi pare che eravamo più o meno tutti quanti in linea nel pensare e nel dire ciò che pensavamo un'ultima battuta che mi viene stimolata dall'intervento della collega Cardin se l'assessore Telesca ti sente dire quello che ha detto stasera si sfigura il volto e se lo graffia ci ha come dire sollecitato positivamente o meno per un paio di mesi tra agosto e settembre nel dire che questa riforma sanitaria sposterà veramente i come dire i soldi dagli ospedali al territorio tant'è che io che su quella riforma mi sono astenuta sono anche un po' preoccupata perché d'accordo ne dobbiamo spostare ma non ne dobbiamo spostare troppi il problema reale invece è quello della diminuzione costante delle risorse che l'abbiamo visto non è colpa di nessuno gli introiti sono minori ma la scorsa finanziaria ha visto un meno 120 milioni di euro con poi un ambiente sociale e sanità senza fare falsa demagogia ma anche in prima battuta categorie particolarmente protette come le disabilità queste questioni piuttosto serie che poi sono stati via via rimpinguati non di tutto ma di una quarantina di milioni durante l'anno quindi per dire che cosa che è tutto importante e questo lo è sicuramente ma i conti che chi si trova a governare in questo momento cambierebbe poco sarebbe una questione di scelte si trova a fare sono sicuramente di un certo peso ecco perché credo che anche questo grande entusiasmo con il quale è stata accolta questa riforma sanitaria sarà destinato pian pianino a smorzarsi ma non per l'incapacità di chi la dovrà mettere in atto o di chi ha avuto queste buone idee ma semplicemente perché c'è veramente un restringimento e una contrazione di risorse io voterò favorevolmente grazie bene grazie consigliere bene nessun altro iscritto pertanto dichiaro chiusa la dichiarazione di voto pertanto pongo in votazione la mozione così come emendata avente seguente oggetto mozione numero 1 2013 reperibilità del medico legale e realizzazione di uno sportello di ascolto psicologico all'interno delle scuole sono aperte le votazioni sono chiuse le votazioni l'esito della votazione seguente presenti 38 votanti 37 maggioranza 19 favorevoli 33 contrari nessuno astenuti 4 la mozione viene approvata bene passiamo ora alla allora la mozione numero 34 del 2012 è all'esame della commissione regolamento pertanto è sospesa la mozione numero 2 2013 anche questa è all'esame del regolamento pertanto passiamo alla mozione numero 3 2013 presentata dal gruppo del partito democratico lista il fiume bolzonello via pordenone avente ad oggetto la modifica della legge regionale frigo venezia giulia numero 16 2011 del 30 novembre 2011 scusate preciso al al consiglio che durante l'ultima riunione della commissione regolamento si è deciso di consentire ai proponenti la mozione che presentano la mozione di poter parlare per 15 minuti come presso il regolamento però distribuiti tra la presentazione l'intervento durante la discussione e le considerazioni finali pertanto 15 minuti possono essere distribuiti su tre interventi ovviamente poi sceglierà il presentatore bene do la parola chi prende la parola ai presentatori consigliere Tomasello prego 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 neanche una mozione d'ordine vi rubo solo due secondi e francamente io voi avete deciso adesso in conferenza di capigruppo il mio capogruppo non c'era perché non poteva esserci nell'ultima riunione quindi io apprendo oggi che sostanzialmente andiamo avanti con l'ordine di allora o mi sbaglio mi dica mi spieghi l'ordine che è stato l'ordine esatto e per di più e questo di per sé è un fatto a mio avviso grave perché ripeto poi le questioni nella precedente riunione del consiglio le ha esposto in modo molto chiaro il collega cabibbo e voi state calpestando il regolamento mi dispiace Presidente però così devo ricordargli questa circostanza state calpestando in modo evidente il regolamento perché mancate su un punto preciso un punto preciso che è quella della convocazione del consiglio per di più danno e beffa si stanno insieme a maggior ragione in questa circostanza perché nella conferenza di capigruppo avete pensato di abbinare due mozioni ritenendo che siano di edem razio cosa no 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 ma ti dico ti dico perché perché ma no ma no ma ti dico perché ti dico perché questo perché tu metti insieme metti insieme metti insieme due mozioni due mozioni siccome io ho diritto a ciò che il consiglio comunale sia convocato in autoconvocazione per quel tema non posso accettare che la mozione sia discussa per una presunta identità di razio e non è questo il caso cioè la mozione che aveva presentato sul tempo Ribetti è una mozione specifica che si rifaceva all'edificazione dell'ospedale non c'entra con e io ho diritto che si discuta di questo questo non è un diritto mio questo è un diritto di un quinto del consiglio comunale per cui lei mi spiace signor presidente non ha fatto bene il presidente del consiglio e merita una censura dal punto di vista politico intendo perché non ha garantito e non garantisce il diritto delle minoranze ecco del ben il diritto delle minoranze a presentare delle mozioni a vedersele a vederle discusse e financo bocciate perché io ho interesse affinché quello che chiedo oggi sia valutato sia esaminato dall'amministrazione sia anche respinto questa è una questione elementare mi scusi ma su questo io credo che le opposizioni siano state completamente messe da parte in questa vicenda e voi state compiendo un atto assolutamente discutibile dal punto di vista regolamentare nessuno di noi ha tempo ne voglia di ricorrere al taro su queste cose perché non ci piace non ci piace non vogliamo buttare gli soldi perché ne abbiamo pochi però si poteva risparmiare questa vicenda magari dedicando una seduta per questa ragione per cui adesso chiudo è evidente che voi volete accorpare due mozioni che sono diverse tra loro presentate in tempi diversi con oggetti diversi e quindi non è pensabile che il senso di quella autoconvocazione del Consiglio venga ridotto venga interpretato in questo modo dal punto di vista regolamentare e mi dispiace che questo sia anche il pensiero del segretario comunale che diversamente si era espresso in questa vicenda ritenendo che fosse riconosciuto debba essere riconosciuto un diritto alle minoranze in queste cose e con questo adesso lei chiude il Consiglio comunale e ce ne andiamo a casa sì io pensavo che fosse chiusa questa questione invece ci ritorniamo allora se lei prende il regolamento vede che il regolamento prevede che io debba convocare il Consiglio non dice cosa devo fare dell'argomento se l'argomento scusi se l'argomento è richiesto ma se prende lo statuto del Consiglio lo statuto del Consiglio dice che il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine un superiore a 20 giorni quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o il Sindaco inserendo all'ordine il giorno le questioni richieste non dibattendo sulle questioni inserendo l'ordine del giorno allora che il nostro ordine le sai cos'è ovviamente l'ordine del giorno che il nostro ordine del giorno abbia un carico molto considerato di argomenti e di strumenti regolamentari questa è un'anomalia ma io non posso far altro che metterlo all'ordine del giorno se lei poi riesce a trovarmi una sentenza del Tar un parere del Ministero dove dice che il Presidente del Consiglio deve convocare il Consiglio per discutere quello guardi possiamo farci no scusi scusi consigliere Capibio io sono andato a vedermi la sentenza del Tar Puglia e non dice questo e non lo sappiamo entrambi poi per quanto riguarda la tutela delle minoranze le continuo a dire se io dovessi convocare il Consiglio sulla richiesta dei consiglieri sulla materia e far discutere il Consiglio sulla materia che mi viene richiesta le maggioranze avrebbero sempre il gioco facile nel fatto di convocare il Consiglio e far discutere su ciò che loro vogliono quando la richiesta dovesse venire dalla minoranza le maggioranze potrebbero non garantire il numero legale a questo punto il gioco sarebbe falsato io devo garantire le minoranze con il mio comportamento ma lo richiederebbe la maggioranza domani la maggioranza presenta un qualsiasi documento e ci fa discutere e approvare quel documento scavalcando tutto l'ordine del giorno si fidi il Consigliere Dalmas si fidi che questo è la garanzia delle minoranze detto questo questa è la terza volta o quarta che viene richiesto scusi che viene richiesta la convocazione scusi il Consigliere Dalmas mi faccia scusi mi faccia finire mi faccia finire è la terza o quarta volta che viene che viene convocato il Consiglio Comunale con queste modalità e tutte le volte l'abbiamo convocato così fine del discorso bene prego penso non ci sia altro da dire prego Consigliere Tomasello presentare appunto la mozione numero 3 del 2013 appunto avevamo concordato prima anche con Dalmas il fatto avevo fatto presente sia il Consigliere Dalmas che la mozione verrà ritirata perché è superata da un intervento della Corte Costituzionale nonché da un intervento legislativo del Consiglio regionale sempre del 2013 che ha fatto venire meno quelle criticità evidenziate appunto nella mozione criticità di natura costituzionale infatti la legge giusto velocemente è il provvedimento appunto del regionale numero 16 del 2011 che prevedeva per la gran parte della provvidenza a sostegno delle famiglie una condizione generalizzata di residenza per almeno 24 mesi al quale si aggiungeva per gli stranieri extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno un ulteriore requisito di residenza quinquennale è chiaro che per noi del partito democratico per noi della maggioranza ma anche secondo i costituzionalisti le associazioni di volontariato questa è la norma approvata dalla giunta di allora giunta di centro-destra la giunta del consiglio appunto di centro-destra con maggioranza di centro-destra della giunta a tondo era sicuramente incostituzionale e in palese contrasto con quanto prevedeva la sentenza numero 40 del 2011 della stessa corte a sostegno di questo appunto è venuta recentemente subito dopo il deposito della nostra mozione la sentenza della corte costituzionale che ha ribadito l'incostituzionalità che noi avevamo prospettato ad integrare la sentenza c'è stata la legge regionale del 27 dicembre 2013 numero c'è il numero 22 la quale appunto ha fatto venire meno quelle criticità per noi la mozione è superata e per questo motivo noi la ritiriamo grazie va bene la mozione viene ritirata passiamo pertanto alla mozione numero 4 2013 che come stabilito in conferenza del capigruppo verrà discussa assieme alla mozione 8 2014 il seguente oggetto la numero 4 del 2013 al seguente oggetto ordine del giorno di sostegno alla costruzione del nuovo ospedale in località Comina proponenti consiglieri Ribetti e Loperfido la numero 8 2014 ha per oggetto sul futuro di azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone proponenti consiglieri Giannelli De Bortoli e Cabibo Dalmas allora discussione unica pertanto due presentazioni con i tempi che vi ho detto discussione unica e poi due fasi di dichiarazioni di voto do la parola ai proponenti la mozione numero 4 consiglieri Ribetti Leil fa la presentazione prego grazie 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 presidente in effetti mi trovo un po' in imbarazzo presentare questa mozione perché purtroppo questo è uno dei problemi del nostro consiglio comunale non so se da altre parti sono messi meglio ma andare a discutere la mozione 4 2013 quando ha parecchio tempo di distanza francamente che voi aveste già deciso in altre sedi il problema che non era ufficiale forse comunque francamente io farò un breve io farò un lascerò diciamo quello che era l'intendimento di questa mozione per quanto valer possa e poi lascerò la parola al collega credo Giannelli che parlerà il collega Giannelli per quanto riguarda l'altra mozione strettamente collegata il consigliere Tomasello mi fisco a lei perché lei che si è girato mi ha detto l'abbiamo presentata quando era già deciso non era proprio decisa si stava discutendo se poi le decisioni erano state prese nella stanza dei bottoni a scapito dei cittadini pordenonesi e lei era al corrente questo è un altro discorso perché purtroppo la scelta che è stata fatta ma qui lo dico lo ribadisco francamente lo ribadisco apertamente è una scelta a mio modo di vedere penalizzante per quella che è la sanità pordenonese perché ma non è che lo dice solo sottoscritto l'hanno detto tutti si sono espressi in modo chiaro a suo tempo quello che era il collegio dei primari l'hanno ribadito in tutte le sedi e andare a pensare e andare a pensare che si possa costruire un ospedale con i malati dentro abbattendo padiglione per padiglione a mio modo di vedere e ripeto non solo mio è una pazzia ma la cosa che fa più male è vedere una parte politica ma su questo devo darvene atto perché voi con la mossa che fece a suo tempo il sindaco Pedrotti o il presidente Pedrotti non so se come devo chiamarlo con la mossa che fece di non andare a firmare quell'accordo di programma francamente avete penalizzato la sanità pordenonese avete fatto qualcosa francamente che la gente non ha capito non l'ha capito non l'ha capito beh ci avete vinto le elezioni però l'esito la conclusione chiamatela come volete che i cittadini pordenonesi ancora non vedono partire l'ospedale sono scelte io l'ho già detto avrei modo di replicare il consigliere Tomasello no più che altro perché perdo il filo non è che io non voglia sono scelte io l'ho detto quando mi sono espresso ho detto prima governava una parte politica aveva una certa idea dopo passati gli eventi non andando a firmare quell'accordo di programma chiaramente no no ma chiaramente è stata presa una decisione del tutto diversa certo che a mio modo di vedere è qualcosa che non ha fatto bene ai cittadini pordenonesi non ha fatto bene la sanità pordenonese e tutti quanti dovremmo dovremmo purtroppo scontrarci con questo però si era sentito di tutto mi ricordo in quel periodo si era sentito il fatto che non era pensabile costruire un ospedale in project financing il PD pordenonese ha fatto le barricate no all'ospedale in project financing poi si andava a vedere il PD di Udine invece aveva votato a favore per l'ampliamento dell'ospedale del terzo lotto in project financing quindi forse siamo tutti a vezzi abbiamo capito qual era la motivazione di quella mossa ecco è quello che fa più male perché pensare che per meri calcoli politici qualcuno possa speculare sulla sanità francamente da pordenonese da cittadino da fastidio comunque io ribadisco con il stato detto ormai la decisione è stata presa quindi indietro non si può tornare almeno fin quando ci sarà questa amministrazione e quando ci sarà questo governatore con questo governatore che speriamo visto che è sempre a Roma che si ricorda che è il secondo incarico come l'abbiamo visto in televisione tutti quanti il mio secondo incarico di governatore forse meglio il secondo che il terzo poteva andare peggio speriamo che almeno qualcosa porti e riesca a costruirlo e farlo partire velocemente questo ospedale io chiedo scusa non ha capito non ha detto così in televisione l'altro giorno che era il secondo incarico quello di governatore si è visto infatti abbiamo l'ospedale comunque va bene mi auguro con tutto il cuore per il bene dei pordenonesi di sbagliarmi quindi buona fortuna in bocca al lupo la scelta l'avete presa buona fortuna che chi sa in ospedale distruggeranno il padiglione per costruirlo con lui di fianco e mi auguro che nessuno dei presenti sarà dentro e dovremo magari rimpiangere qualche scelta che ha fatto sulla salute dei pordenonesi lascio la parola al collega Zannelli consigliere Dalmas prego quando abbiamo presentato questa mozione effettivamente si stava votando stavano stavano discutendo in regione la riforma 59 voluta dalla maggioranza che governa la regione Friuli Mezza Giulia decreto disegno di legge numero 59 riordino dal sette istituzionale organizzativo dal servizio sanitario regionale norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria l'abbiamo presentato la mozione nelle more di approvazione di questa legge perché ritenevamo e riteniamo perché riteniamo che la questione sia oggi più che mai attuale proprio per l'approvazione della legge stessa che il consiglio comunale di Pordenone e il sindaco di Pordenone assumano un impegno che credo sia sostenibile che non significa rinegare l'impianto della legge che è stata approvata che significa e ha come che ha quale obiettivo esclusivo lo dice la il dispositivo un impegno del sindaco e quindi una voce forte sentita del consiglio comunale affinché non siano disperse nostre eccellenze e affinché e questo è il tema caro sindaco Pedrotti affinché le famose schede nelle quali si deciderà chi fa che cosa e cioè quali reparti ci saranno che tipo di reparti quali strutture siano tali al di là ripeto dell'impianto generale della norma siano tali da assicurare quei livelli che comunque l'azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli ha è chiaro che per noi questa questo richiamo lo diciamo chiaramente nel nel dispositivo quindi non è ripeto una posizione ideologica la nostra non lo è assolutamente è semplicemente perché riteniamo che sia concreto il rischio peraltro anche forse suggerito dai fatti o comunque da diverse visioni dell'organizzazione o dei modelli istituzionali sicuramente la nostra è una visione diversa da quella di chi governa la regione Ferenza Giulia ma non dico che la nostra è migliore della loro per carità però è chiaro che dentro quelle scelte che verranno che dovranno farsi e compersi nei prossimi giorni e che con un meccanismo scelto dall'amministrazione regionale e impiantato dentro questa legge si è deciso che sia la giunta regionale a definire a definire strutture funzioni reparti nel segreto rispetto alla prima bozza e l'assessore Romolo lo sa benissimo la prima bozza del disegno di legge conteneva delle schede legate in cui era chiaro dove si andava dove si sarebbe portato il sistema ciò ha creato delle tensioni e quindi hanno tolto queste schede e riaffidato all'amministrazione regionale il compito di dire congiunta regionale dove andremo a incidere in che modo e in che termini e vedete questo non è secondario per Pordenone non è secondario sapere se potremo contare su alcuni primariati oppure no se questi primari saranno dei primari o dei primarietti se alcune eccellenze che abbiamo avuto saranno confermate voi sapete avete letto i giornali come tutti noi leggiamo i giornali abbiamo visto che ci sono per esempio tre quattro che rimangono in subiudice in attesa di convocazione anzi di definizione da parte dell'assessore regionale Telesca mi riferisco ad una notizia che la passa sui giornali in questi giorni rispetto ad alcuni primari importanti penso all'archilogia della mano piuttosto ad altre cose sono tutte funzioni di eccellenza che comunque l'ospedale di Pordenone svolgeva nell'ambito regionale del Fiorio Venezia Giulia quindi la mozione signor sindaco chiede semplicemente questo chiede un'attenzione del consiglio comunale affinché si vigili su questo ma perché arriviamo a chiedere queste cose perché evidentemente noi esprimiamo un giudizio fortemente critico su questa legge e è fortemente critico perché non credo alla favola per cui questa è una legge che mette al centro l'uomo mentre quello che facevate voi non è non aveva come centro l'uomo paziente cittadino utente è una legge che dice subito delle cose e cioè che dal primo gennaio del 2015 sparirà l'azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli forse sarà anche giusto perché forse questa nuova norma questo nuovo impianto avrà successo io ve lo auguro perché nell'interesse di tutti che abbia successo che funzioni mi riesce un po' difficile immaginarlo che ce l'abbia perché facendo due conti prima di tutto non è una legge dove si risparmia non si risparmia nulla anzi passiamo da 11 aziende del sistema numero 10 aziende forse a 8 dopo il dopo il 2017 ammesso che funzioni la cosiddetta che ci sia un protocollo d'intesa per l'università di Udine per l'università di Trieste bene dicevo questa norma è caratterizzata questa legge da una complicatezza architetturale io sono ispirato da Franco quindi insegna che la complicatezza architetturale non la complessità la complicatezza architetturale dove c'è una sovrapposizione dei livelli di governo non c'è una chiara linea di comando e dove però si dicono con chiarezza alcune cose primo e lo ripeto scusatemi la ridondanza che sparisce perché questa è una cosa che per i pordenonesi è difficile da comprendere perché ricordo che qui nel 94 si sono raccolte ben 20.000 firme in questa città e nella provincia per istituire l'azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli che fu indicata quale azienda autonoma del sistema sanitario regionale con legge 12 del 1994 oggi d'amblè questo sparisce e si ritorna ad un modello conosciuto che è quello dell'ASL 11 dell'USL numero 9 quello anteprocesso di aziendalizzazione un modello che molte volte non certo chi vi parla che non ha competenze specifiche a riguardo se non miserrime competenze legislative regionali è chiaro che soprattutto l'ambito vero che sono i medici sono gli operatori sanitari a tutti i livelli avevano indicato come il punto critico del sistema quando noi mettiamo due aziende complesse dove da un lato c'è il territorio dall'altro c'è l'ospedale l'ospedale divora il territorio e quindi non raggiungiamo l'obiettivo che è quello di portare maggiori risorse verso l'esigenza del sociale del pre post acuto che sono le esigenze rispetto alle quali la complessità del vivere d'oggi impone una più articolata e anche costosa permettetemi attenzione ecco quindi c'è una complicatezza architetturale perché mettete insieme queste due realtà che non non possono necessariamente stare insieme ve lo dimostra l'articolo decreto legislativo 507 per quanto riguarda Udine e Trieste dove vi siete inventati una formula sperimentale ritenendo che vi sia una complicità nel governo di Roma questa legge doveva essere necessariamente impugnata dal governo perché viola un disposto nazionale il quale dice che le università o i centri dove insistono dei policlinici universitari devono stare come enti autonomi devono stare perché il legislatore nazionale aveva pensato questa cosa perché non era possibile mettere insieme le esigenze del neurochirurgo del cardiochirurgo con le esigenze che provengono ugualmente complesse e rilevanti ma di diversa natura che derivano invece dall'assistenza primaria dal preposto acuto e dalle altre cose è una legge che ha una complicatezza inutile architetturale perché individua tre aree hub di cui una è soltanto sulla carta un piccolo abbino che è quello che viene riservato a Pordenone ecco signor sindaco perché noi rivolgiamo questo appello vorrei l'attenzione dell'aula scusate mi sono pesante su queste cose perché c'è scritto chiaramente che la funzione hub per Pordenone è una funzione sulla carta perché non lo è nemmeno il cro per quanto riguarda l'oncologia dell'intero provincia di Pordenone perché San Vito sull'oncologia sarà terra a sé mentre assicuriamo la funzione di oncologia di Pordenone al cro e questo va benissimo sta in una logica ma non riusciamo a dire e a ottenere che nel piano oncologico regionale il cro sia il punto di riferimento abbia la regia e io ve lo dico perché so che queste difficoltà ci sono so che queste difficoltà ci sono e difficilmente verrà riconosciuta da una parte importante qualificata dell'università questa funziona a noi a noi dico a noi come 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 parte di un sistema quindi perdiamo caro assessore l'azienda ospedaliera poco importa dice lei comunque ci rafforziamo perché avremo più risorse da destinare al territorio non le avremo io ho l'impressione che questa riforma di fatto moltiplichi apparati moltiplichi la struttura territoriale ci porti nuove figure di primari che si inventano con tali funzioni nell'ambito territoriale e non credo che ci sia un effettivo spostamento verso le esigenze cosiddette territoriali delle risorse veda il bilancio della regione sulla sanità mi pare che di 2 miliardi 200 qualcosa milioni di euro la regione oggi viaggia con un bilancio correggimi assessore se sbaglio di quanto di 100 milioni se no disponibili no no dico la regione 100 milioni disponibili perché tra quello che si devono le autonomie locali e tutto il resto quindi viviamo in un mondo completamente cambiato perché è evidente ci sono meno soldi abbiamo meno compartecipazione alle tratte quindi abbiamo meno dove chiunque credo si ponga il problema di garantire il livello di servizi di assistenza e la qualità e l'efficienza dei nostri ospedali con minori risorse e sempre maggiori costi perché la farmaceutica è una variabile indipendente del sistema perché lo è la complessità della vita di chiunque operi e chiunque conosca tutto ciò di cui la sanità si occupa e che abbraccia dalla culla alla tomba i nostri concittadini bene dobbiamo farlo con quei soldi lì perché siamo fuori dal fondo sanitario nazionale e la Seracchiani ha ragione sicuramente possiamo dire un'altra cosa alla Seracchiani sicuramente non possiamo dire che è una persona che non sa comunicare e sa comunicare molto bene e ha le idee chiare è una persona efficace da questo punto di vista però questa è una riforma sbagliata ma è una mia opinione perché questa è una riforma concepita concepita in ambienti molto sì assolutamente individuabili che stanno a Udine che mal sopportano il fatto che Pordenone abbia una sua autonomia una sua eccellenza e determinati risultati che abbiamo avuto poi viene un altro aspetto qui mi rivolgo all'assessore Romor e vedete se dobbiamo applicare Balduzzi siamo tutti d'accordo non è che possiamo decidere di applicarlo gioco forza no 3,7 per mille abitanti 3 per mille ospedalieri 0,7 riabilitativi però ancora nessuno ci ha detto dove andiamo a toglierli sappiamo quali sono le aree chiaramente in esubero sono oltre 100 posti per acuti di più nell'area triestina qualcuno a Udine ma la prevalenza di concentrazione è lì eppure pensare male si fa peccato no? ma talvolta si indovina se io metto insieme visto che sono obbligato a parlare anche della mozione di Ribetti ma non entro sulla questione del vecchio nuovo ospedale per carità è sepolta ormai nella mia memoria però però tenga conto che sono già scaduti 15 minuti no finisco ma vede sono buono anche apertura apertura no? fiducia ecco vede dove vengono fuori questi 100 posti letto qui da noi e l'assessore Romor lo sa benissimo lo sa benissimo che vengono fuori da noi perché il piano il nuovo ospedale che voi volete realizzare lì esattamente avrà 90 posti letto in meno rispetto agli attuali guarda caso e grosso modo la differenza di posti letto imposto dal Balduzzi su scala regionale quindi mi togliete l'azienda ospedaliera mi togliete il posti letto mi date un riconoscimento di area ab assolutamente finisco no no ha ragione finisco va bene finisco no ha ragione ha ragione no ha ragione ha ragione quindi quindi no no ha ragione sono un po' sì ma abbiamo accorpato allora ha ragione effettivamente finisco ha ragione e finisco ritenevo ma guardi no mi scusi consigliere hai perfettamente ragione però mi creda e ebbè per cortesia dai per cortesia ecco allora chiudo semplicemente con un invito affinché questa mozione che può essere modificata nelle promesse se qualcuno non gli va bene quello che c'è scritto però è chiaro che non ha una posizione ideologica vuole essere un segnale di apertura e soprattutto un messaggio affinché l'amministrazione comunale il sindaco in prima persona forte del consenso di tutto il consiglio comunale possa vigilare sull'andamento dei piani che verranno decisi e definiti a breve ecco questa ragione caro consigliere per cui mi sono trattenuto un po' di più su questo argomento grazie 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 consigliere D'Armas chiedo all'amministrazione se vuole intervenire e dire qualcosa prima del prego signor sindaco facciamo una serie di considerazioni una prima parte di considerazioni svolgerò io molto breve poi l'assessore Romor scenderà nei dettagli più tecnici e più sanitari circa comina o non comina vi do semplicemente è vero ormai il tema la decisione c'è vi do solo un aggiornamento sulle cose principali che stanno accadendo su questo fronte diciamo della parte fisica chiamiamola così il il bando per scegliere chi andrà a fare la demolizione voi lo sapete era già stato pubblicato in giugno è stato giudicato in settembre c'è uno svolgimento ovviamente come ogni bando ha una serie di code che devono essere svolte e l'intenzione di cominciare la demolizione del primo padiglione che sarà il W tradotto quello più vicino al parcheggio quello più vecchio e più vicino al parcheggio quindi si parla di gennaio nel 2015 quindi la fine di gennaio 2015 vedremo che il cantiere verrà attivato e questo sarà il primo atto fisico di fatto dei lavori in corso la definizione del bando per la 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 dell'ospedale voi sapete che sarà un bando che comprende io sbaglio sempre le terminologie per cui un attimo sia la progettazione preliminare che quella definitiva le indicazioni date alle ditte che sono che concorrono sono 16 sono state tutte quelle possibili dal punto di vista funzionale dei sia del progetto alfa vi ricordate quello di qualche anno fa sia le indicazioni che erano state date per il progetto comina da un punto di vista delle caratteristiche della qualità costruttiva e dell'adeguamento diciamo chiamiamolo tecnologico dell'edificio quindi si fa tesoro di tutto quello che è stato prodotto e si è messo a disposizione anche quello che è stato prodotto per arrivare di fatto entro la fine di quest'anno ad aggiudicare anche il chi farà il progetto preliminare e definitivo quindi dal punto di vista pratico quello che è stato lanciato circa di fatto dunque con decisione del consiglio della giunta regionale nel novembre 2013 è in fase di progresso adesso non so magari non è un italiano corretto ma insomma di avanzamento con i due step che erano stati a suo tempo annunciati ecco da un punto di vista della mozione quindi parlo della numero 8 che è stata ampiamente commentata dal consigliere dal MAS la parte quella che viene definita in subordine cioè impegno nel sindaco di Pordenone e vigilari sulle caratteristiche del persidio svedaliero di Pordenone come definite delle schede eccetera eccetera quello che lei ha diciamo illustrato con dovizia di particolari io la faccio adesso qua bisognerà capire da un punto di vista tecnico come questa cosa sia possibile che questa parte io me la faccio propria evidentemente questo è il mio ruolo forse è stato già indicato se è stato fatto qualche passaggio in precedenza ma sul fatto che io debba vigilare soprattutto adesso nella definizione delle schede che saranno di fatto la traduzione pratica del riordino e attraverso queste schede che ci sia un monitoraggio attento di quella che è il tentativo di andare contro la sperequazione che esiste nella nostra regione nei nostri confronti da un punto di vista non solo sanitario e questo è uno degli strumenti di reale monitoraggio e di puntuale definizione quindi questo è un elemento che lo anticipo mi mi vede particolarmente coinvolto formalmente informalmente proprio per far sì che quello che è stato promesso cioè che questo riordino diventi un mezzo con cui la sperequazione possa essere diminuita e quindi ci si faccia carico anche di aspetti l'abbiamo detto in qualche commento che abbiamo fatto proprio in consiglio comunale tempo fa sull'attrattività dei posti di primariato per esempio nel nostro ospedale basato anche su quello che è il giusto da pagare tutti questi aspetti sono all'attenzione e debbono essere compresi nella pratica attuazione del riordino proprio per far fronte a questi fondamentali aspetti dell'effettiva qualità che alla fine debba essere generata nel futuro ospedale di Pordenone ma anche in questo periodo transitorio perché è questa la verità e soprattutto adesso che a noi interessa che il riordino cominci a funzionare per far fronte alla sperequazione questi i primi due fronte di commento e lascio adesso la parola all'assessore Romor che si addentra negli aspetti a cui lei faceva riferimento a Vocanze grazie sindaco allora anch'io come lei mi metto sulla posizione di una visione della legge attuale legge 17 non più disegno di legge 59 ormai è passata come legge della regione e dal mio punto di vista la individuo con dei vantaggi rispetto al precedente soprattutto per quanto riguarda il territorio di Pordenone io non lo vedo così negativo rispetto rispetto alla precedente legge anzi l'unione delle due aziende la territoriale e la ospedaliera che lei dice è un ritorno alla USL 11 può in realtà portare dei vantaggi importanti per la nostra area vasta riferita ad una visione da parte di un direttore generale unico che riesce a gestire tutte le problematiche della nostra realtà sanitaria avendole in gestione una persona unica il problema che si aveva che si era sollevato sul fatto che la gestione unica tende a portare via sostanze risorse all'ospedale e non è non è così l'ha accennato anche lei prima che tendenzialmente quando c'è un territorio debole c'è un ospedale forte noi in questo momento abbiamo vissuto l'esperienza che la parte ospedaliera ha sempre attratto verso sé una particolare quantità di risorse lasciando il territorio sempre in una condizione di difficoltà questa azione della legge che mira secondo noi a dare un equilibrio delle risorse gestendo un territorio forte che sia capace di dare le risposte ad un ospedale forte non può essere altrimenti la visione di questa legge ha in sé proprio creare le strutture sul territorio tali da poter distrarre dall'ospedale tutte le azioni improprie che vengono demandate all'ospedale che siano svolte sul territorio e che l'ospedale faccia la sua parte per acuti secondo quello che viene programmato prima il si la la no ma no allora per carità noi vedremo vedremo ma aspetti non andrò in carità al Veneto andrò in Veneto a carità di soldi no ecco noi dobbiamo fare questa la nostra realtà su questa posizione è quella che ci permette forse di fare un passo in avanti anche verso Udine e verso Trieste che per due anni saranno commissariati e sa che quando arriva il commissario in qualche maniera ci si ferma alle azioni quotidiane di ogni giorno e la programmazione non va non va tanto avanti questa è una mia posizione personale come è una mia posizione personale ma no è questa è questa è la nostra questa è la nostra posizione come era legittima la sua anche noi possiamo avere una legittimità in tal senso e in più le dico che tanto per capire quali sono le intenzioni dell'amministrazione regionale nei nostri confronti nella nostra realtà le posso già dire che sono stati garantiti la nomina dei cinque primari entro il 31 dicembre del 2014 ci sono cinque primariati come lei ben sa lo Torino che abbiamo già un vincitore la chirurgia della mano abbiamo già un vincitore e poi abbiamo la gastroenterologia la cardiologia e la rianimazione anestesia che dovranno ottenere il proprio primario per quanto riguarda la gastroenterologia abbiamo rassicurazioni da parte della regione che sarà trasformata in unità complessa non semplice per cui già abbiamo una fase di miglioramento a livello della gastroenterologia che ci parte direttamente da Trieste quindi le paure che noi abbiamo di una diminuzione delle capacità in questo momento abbiamo invece delle informazioni completamente diverse in controsenso che ci danno un vantaggio rispetto allo stato precedente poi dall'altra parte c'è tutta la struttura territoriale che va in un senso molto importante con la partecipazione da parte dei medici di medicina generale in una struttura che va verso le associazioni verso i raggruppamenti verso le cosiddette AFT e verso le CAP i centri di assistenza primaria che tenderebbero a essere messi in aggregazione tutti gli operatori della medicina territoriale in modo da fare quel lavoro che in realtà dovrebbe scremare quella parte di attività che una volta andava spontaneamente verso l'ospedale e quindi togliere in poche parole virgolette i codici bianchi ma anche intervenire in maniera più diretta sulle malattie che il territorio stesso può gestire abbiamo non soltanto quindi una gestione della cronicità che se gestita bene elimina l'effetto ping pong di ricovero dal territorio all'ospedale dall'ospedale al territorio e viceversa ma anche andare a puntare sulla piccola forma acuta quella gestibile dal territorio per ridurre l'ingresso di patologie improprie verso un ospedale che deve dare delle risposte diverse in maniera specifica specializzata ad alta tecnologia alle patologie acute ecco secondo noi la visione è una visione che va seguita e diciamo che potrebbe essere poi dal primo gennaio del 1915 gli ospedali dell'area vasta saranno in gestione unica dal direttore unico generale e anche il territorio sarà gestito da il direttore unico di tutta questa azienda territoriale che si chiamerà 5 e quindi verranno condivise le necessità da parte dell'uno dell'altro ripeto quando c'è una debolezza di una struttura un territorio debole per forza di cose fa un ospedale forte ma non è forte perché dà delle risposte particolari perché concentra a sé una serie di risposte da dare al cittadino che vede nell'ospedale soltanto l'ospedale come punto di riferimento della cura quando queste cure possono essere tranquillamente demandate al territorio e lasciate nell'ospedale solo quelle cure che sono estremamente necessarie da svolgere l'ospedaliero io mi fermo bene dichiaro aperta la discussione do la parola al consigliere Bonato prego grazie presidente e allora innanzitutto una risposta più che una risposta una riflessione a quanto ha detto il consigliere Ribetti dunque secondo l'OMS i dieci migliori ospedali d'Italia sono è lucito Sant'Orso l'ha costruito nel 1472 ristrutturato in loco Policlinico Umberto I di Roma fine ottocento ristrutturato in loco San Matteo di Parma ristrutturato in loco Gaslini ristrutturato in loco eccetera ma non voglio fare allora le obiezioni che venivano poste a mio avviso sono così tenute in scarsa considerazione da questi altri no ristrutturato se lei va a vedere la fotografia è ancora il convento di Sant'Orso se va a vedere San Matteo trova se va a vedere l'hotel de Die scusi sto parlando allora se va a vedere l'hotel de Die a Parigi che serve otto arrondissements l'hotel de Die è del 1820 e è assolutamente la stessa forma dei palazzi che sono vicini ovviamente ad altissima tecnologia punto era semplicemente un'informazione un'informazione allora io vorrei ricordare prima del mio intervento che no poi un'altra cosa scusi il consegnere Dalmas che ha fatto ha parlato di ospedale forte ma io non so cosa considera forte lei per me un ospedale forte se dà delle risposte pertinenti ai bisogni di salute della popolazione potrei citare infiniti casi visto che mi occupo come volontaria di situazioni complesse di di sidi profondi a presenza degli utenti pazienti clienti vogliamo chiamare io parlo dei cittadini che hanno bisogno di tipo anche sanitario di conflitti potrei citarle l'ultimo pochissimo tempo fa fra primari fra personale di un reparto e l'altro quindi insomma secondo me in questo caso non è forte non è che sto dicendo che con l'unificazione si risolveranno questi problemi però per me è forte una struttura quando dà delle risposte pertinenti e adeguate ovviamente prima di entrare nel merito delle due cose che cerco di dire come gruppo consigliare del partito democratico concordo in pieno nell'intervento quanto ha detto il sindaco e quanto ha detto anche l'assessore rumor faccio presente però alcune cose che il consigliere Dalmas ha dimenticato in questa legge di riordino che gli obiettivi che si pone alcune priorità sono l'eliminazione e riduzione dei doppioni assistenziali con conseguente accorpamento strutturale delle risorse abbiamo due chirurgie lo sa benissimo il consigliere Dalmas che sono in conflitto permanente e che possono unificarsi con un primariato unico e anzi io penso che dal primo gennaio questo avverrà quindi ovviamente anche con eliminazione o riduzione dei doppioni assistenziali con conseguente accorpamento strutturale delle risorse spazi personali e tecnologie poi ridimensionamento dell'organizzazione delle funzioni assistenziali eccedenti gli standard ovvero riduzione dei posti letto eccedenti gli standard stiamo parlando di standard non di privilegiare ci sono degli standard rispetto alla popolazione e noi abbiamo tengo presente che l'ospedale è per acuti e che da dati certi di persone noi abbiamo una permanenza media in ospedale cioè una degenza media di 4,1 questo ci fa pensare sul ruolo del territorio del territorio perché le persone poi dopo i 4,1 giorni tornano a casa prima e dopo o sono a casa va bene ridefinizione trasformazione questo è importante per il discorso di una rete di una rete proprio strutturata in funzione della salute della trasformazione di posti letto per acuti in post acuti per riabilitazione eccetera e lo ricordava anche l'assessore Rumoro un attimo fa nuove modalità organizzative ai funzionali della medicina convenzionata medici medicina generale pediatri di libera scelta coerentemente con i nuovi indirizzi delineati dalla normativa nazionale per consentire lo sviluppo dell'assistenza primaria che non è stata quasi citata nella relazione si vede che parliamo con persone diverse a me parlano continuamente di questo in relazione ai mutati bisogni assistenziali che richiedono l'integrazione tra i diversi livelli al fine di garantire la continuità assistenziale allora in questa prospettiva all'assistenza medica primaria è richiesto di svolgere il ruolo di cruciale importanza di prima risposta lo diceva anche l'assessore ai problemi di salute della popolazione e di coordinamento dei percorsi assistenziali individuali perché da parte mia questo richiamo insistente della legge della continuità assistenziale da parte nostra perché questa modalità di intervento si presenta ancora di difficile attuazione nonostante i reteati e reiterati protocolli di dimissioni protette di continuità assistenziale stipulati in questi anni tra azienda ospedaliera e azienda territoriale c'è una tesi di laurea di una infermiera che ha fatto la verifica di quante persone dimesse soprattutto in situazioni di dimissione protette sono state seguite secondo i protocolli che vuol dire che appunto qualche volta i protocolli si lasciano scrivere ma non si realizzano allora quale può essere la difficoltà a dare risposte diciamo a questa perché questo richiamo insistente da parte delle normative già con la 833 che istituiva il servizio sanitario nazionale uno dei primi aspetti era la continuità assistenziale il percorso di cura dunque parliamo del 78 perché la legge 833 è del 78 ed è stata reiterata reiterata e ampliata in tutte le normative nazionali regionali DDL eccetera perché perché ovviamente abbiamo abbiamo diciamo il tema situazioni complesse quella continuità assistenziale delle dimissioni protette ma abbiamo ancora una forte fortissima diciamo appartenenza istituzionale e un'autoreferenzialità di servizi e di istituzioni che fanno fatica appiegarsi a quello che è il paradigma previsto dettato dalla normativa dalla legge di riforma dal decreto legislativo 229 che dice dalla centralità di istituzione e servizi alla centralità del cittadino e dei suoi bisogni per me questa è la cosa più importante mi interessa poco del numero dei primari basta che questi siano al servizio del cittadino allora la diversa organizzazione per noi invece individuata dalla legge regionale si propone di puntare a un sistema capace di farsi carico di tutti i bisogni del paziente da ricovero in ospedale fino alla riabilitazione fino alla diciamo alla domiciliazione evitando discussione su competenze appartenenze direzioni di riferimento alquanto complesse inevitabili se le aziende e di conseguenza i centri di potere sono due io di questo sono convinto non dico che da sola la legge funzionerà ci vogliono poi anche le visioni etiche la disponibilità quindi come gruppo consigliare il partito democratico nel merito della mozione in discussione riteniamo opportuno fare alcune considerazioni positive sull'unificazione della osma con l'azienda territoriale numero 6 che a nostro avviso si pone obiettivi di qualità di efficacia di efficienza del sistema in particolare su due versanti prima di dirgli dico che la riduzione dei costi è in dubbio voi avete citato la soppressione del centro servizi condivisi quando sapete benissimo i risparmi che ha comportato questa facendo gare di appalto uniche per le seringhe per i panoloni per le gare d'appalto eccetera secondo me c'è mala fede in questo vado avanti si permetta poi a tutto il tempo di dire allora le due questioni importanti per noi sono garantire le dimissioni protette che vuol dire che le persone che sono in condizioni molto difficili prima di essere dimesse non vengono dimesse il venerdì pomeriggio vengono concordate le dimissioni perché c'è bisogno del distretto c'è bisogno di assistenza domiciliare c'è bisogno del servizio sociale parliamo di persone che non hanno riferimenti familiari o che hanno situazioni davvero complesse queste si chiamano dimissioni protette che consistono in effettivo passaggio in cura ad ospedale del territorio con reale presa in carico della persona e dei suoi problemi di salute e autonomia allora questo richiede chiaro un coinvolgimento tra la struttura ospedaliera e il territorio con l'unificazione speriamo che questo migliori noi ci crediamo o faremo in modo che migliori migliorare la continuità assistenziale dopo la dimissione ospedaliera con un approccio multidisciplinare con un'area di servizi integrati sanitarie e sociali domiciliari residenziali e semi residenziali per favorire il recupero funzionale e l'autonomia delle persone ed evitare come diceva l'assessore i ricoveri impropri che sono molto frequenti proprio perché mancano a volte le risorse sufficienti territoriali allora faccio presente che noi tanto più che la situazione oggi presenta un incremento costante di pazienti affetti da malattie croniche con un aumento della sopravvivenza complessiva in ogni fase di età a ciò si aggiunga che sempre più persone con patologie croniche non hanno intorno a sé una rete di assistenza parentale o sociale allargata questi sono i cittadini che incontro almeno a conclusione a parte del gruppo consigliare del PD l'avere un unico centro decisionale tra interventi ospedaliere e territoriali può non dico non sono certa può rappresentare una svolta sul piano della qualità delle cure e nel contempo possa provocare quel cambiamento di paradigma culturale che lei ha centrato in pieno non il cambiamento l'attuale paradigma culturale ovvero una visione ospedalocentrica ancora molto radicata non credo molto nel territorio tra gli operatori dell'ospedale sicuramente passando invece a una visione di sistema reticolare diffuso del territorio che abbia come centralità i bisogni di salute del cittadino le modalità più efficace per affrontarli a me interessa poco come si chiama mi interessa che rispondino ai miei bisogni e soprattutto per noi del PD per le categorie più svantaggiate che hanno meno potere minori risorse economiche sociali e relazionali per garantirsi il diritto alla salute grazie grazie consigliere consigliere del ben prego grazie presidente grazie anche al sindaco perché nelle sue iniziali battute ha mandato un messaggio che io colgo su questa aula cioè l'assessore Dalmas ha finito il suo intervento anche analitico dicendo invitando il sindaco Franco per il piacere Dalmas verifica dicendo che invitava il sindaco a vigilare sui piani che verranno stabiliti allora secondo me se il consigliere Dalmas ha si rivolge al sindaco come persona di riferimento sufficientemente credibile come persona di riferimento perché vigili su quello che sarà l'andamento della sanità pordenonese nei suoi aspetti ospedalieri e territoriali il sindaco dice se è così mi sento di farla propria allora per me questo è un momento positivo allora una volta che il sindaco si esprime in questo in questo modo per dire oltre ad averlo ringraziato per la sua posizione sulla collocazione dell'ospedale in Comina che troppa divisione ha creato nel comune di Pordenone ma comunque lo diceva Ribetti la scelta è stata fatta è giusto fare l'ospedale in zona ospedale fatto questo adesso abbiamo una legge nuova che è la legge 17 giusto per non per chiarire anche a chi ascolta io ho avuto la fortuna di lavorare in ruoli per dire strategici in tutte le realtà sanitarie della nostra provincia e in tutte queste sono ancora affezionato e ho ancora legami allora questa legge 17 che cosa può dare a Pordenone e cosa noi possiamo dire al sindaco perché vigili sulla corretta applicazione dei piani stabiliti prima di tutto c'è una questione che Dalmas ha detto in modo molto chiaro Frui Venezia Giulia vive di una quota parte delle sue tasse per finanziare il servizio sanitario regionale e se l'economia stagna o si riduce le risorse per la sanità stagnano o si riducono in una situazione difficile in sé perché la sanità ovunque si faccia richiede farmaci attrezzature organizzazioni i cui costi sono maggiori di quello che può essere la cosiddetta inflazione cioè lavorare in sanità dove è necessaria l'innovazione lì sicuramente c'è bisogno di più risorse allora ci vuole un maggior impegno proprio per garantire i servizi che almeno finora sono stati erogati il passo di questa legge 17 che ti piaccia o non ti piaccia è una legge che ha avuto una importante maggioranza in consiglio regionale e che detta delle regole che secondo me sono completamente condivisibili ha degli elementi sui quali noi potremmo contribuire forse perché le finalità siano raggiunte in un modo migliore Maria Bonato con molta attenzione ha parlato degli standard gli standard sono 3 per 1000 per gli ospedali per acuti 07 per i post-acuti riabilitazione ma forse questi non ci bastano per chiedere come dovrà essere la nostra sanità se noi leggiamo una delibera del novembre 2009 abbiamo a Pordenone una quantificazione delle case di riposo lì è scritto a chiare lettere che i posti in case di riposo devono essere grossomodo ma semplificano 5 ogni ultra 75 anni per i 1700 bisogni standard della provincia di Pordenone abbiamo più o meno 2100 posti nelle case di riposo allora mi chiedo se gli ospedali hanno più letti di quello che dovrebbero avere perché siamo oltre standard se le case di riposo hanno più letti di quello che dovrebbero avere com'è che noi potremmo contribuire a portare un equilibrio di valore internazionale su questo aspetto noi chiediamoci se il territorio avesse obiettivi risorse competenze per fare a pieno ciò che potrebbe essere fatto noi potremmo ridurre il numero delle persone che vanno in case di riposo perché avranno l'assistenza domiciliare noi potremmo avere una riduzione di ricoveri in ospedale perché troveremmo nel sistema territorio e su questo sistema territorio metto dentro anche le residenze per anziani quel equilibrio in cui su questo triangolo a tre lati l'ospedale per acuti il territorio i servizi sociali socioassistenziali si possono integrare per questo quando abbiamo incontrato qui anche l'assessore Telesca mi è parso opportuno e doveroso dire è opportuno che adesso si faccia un ulteriore passo è stato impossibile farlo nel momento di questa legge ma si può fare a breve e che è la maggior integrazione fra il sanitario e il sociale all'assessore ho ricordato me lo dico qua signor sindaco perché mi pare un po' opportuno che se l'assessorato regionale alla salute e all'assistenza sociale e protezione sociale familiare inserimento eccetera è tutt'uno perché non possiamo avere una legislazione una panificazione che sia integrata nelle scelte dell'assessorato e sappiamo che ormai sono le regioni quelli che guidano i servizi sanitari allora tutto ciò che può portare a una maggiore integrazione fra sanitario e sociale è uno di quegli elementi che consente di cogliere lo spirito di questa legge che deve essere fatta si è parlato e ricito dal MAS perché mi pare stasera importante dire ma il nostro ospedale di Pordenone sarà un ubino diciamo che la legge regionale parla degli ospedali hub cioè quelli di riferimento di primo e di secondo e di secondo livello è chiaro che se noi andassimo indietro di una ventina d'anni 97 no 17 anni noi avremmo visto che le aziende ospedaliere potevano essere di due livelli in funzione del possesso l'azienda ospedaliera delle specialità l'azienda ospedaliera di maggior riferimento delle alte specialità nulla a questio se a Udine e a Trieste noi lasciamo le alte specialità magari giocando sul ridurre limitare eliminare quei doppioni neurochirurgia cardiocirurgia che sono forse l'espressione malattie effettive espressione delle alte specialità però il nostro ub di primo livello diciamo francamente dovrebbe essere l'ospedale che in provincia di Pordenone abbia le specialità allora io vivo con un po' di perplessità why not il fatto che una specialità come lo Torino abbia una qualificata presenza a Pordenone secondo storia tradizione e abbia anche una sua presenza di specialità a San Vito quasi quasi franco si tende a creare qualcosa che competa se poi a questo e lui l'ha detto teniamo conto anche che la oncologia di San Vito sembra quasi separata rispetto alla gestione complessiva della oncologia in provincia allora facciamo una riflessione e auguriamoci che le schede tengono conto che sul loop di primo livello di Pordenone confluiscano le specialità perché questo facendo molta attività chirurgica in queste specialità tipo lo Torino abbiamo la garanzia che manteniamo gli alti standard di qualità poi non mi interessa qualsiasi il nome o il cognome del primario non ne ho nessun interesse verranno nominati secondo i criteri che devono essere fatti e avendo citato l'oncologia l'altro elemento che ho detto alla telesca e qui ripeto è una grande per dire schematizzazione nel sistema sanitario nazionale e poi anche regionale allora si dice che gli IRCS istituti di ricovero e cura carattere scientifico hanno un ruolo di ricerca e innovazione per il servizio sanitario nazionale le università hanno un ruolo di ricerca per la didattica allora se noi mettiamo in evidenza la funzione SSN didattica diciamo che forse non ha senso che la regione sia ancora incapace di dare al Cro quel suo ruolo di obbligatoria centralità regionale nella ricerca oncologica che gli spetta per essere un IRCS e questo lo diciamo chiaro e forte non ha senso che l'oncologia del Cro rimanga dentro la provincia di Pordenone rimanga per fare l'oncologia che può essere fatta per dire ordinariamente ma che debba comunque essere quel posto dove il 10-15% di patologia oncologica che serve per la ricerca e l'innovazione per il servizio sanitario nazionale abbia nel Cro il suo punto di riferimento fatto questo non andremo in conflitto non sicuramente chiederemo di raddoppiare i posti letto al Cro ma dare ognuno la sua funzione specifica guardiamo un attimo ancora la nostra provincia deve concludere consigliere due minuti scusa ok ancora una cosa ti chiedo scusa perché avevo programmato uno noi abbiamo oggi una necessità chiudo una necessità di ridurre le fughe se specializzassimo di più una parte dei nostri ospedali sicuramente potremmo ridurre le fughe però si cresce anche se siamo in grado di attrarre Pordenone nel suo contesto attrae molto di più di quello che perde allora se al signor sindaco e qua chiudo noi dobbiamo dare degli indirizzi perché tuteli il territorio nell'applicazione di questa buona legge le cose che abbiamo detto possono essere sufficienti e adeguati e io so che il sindaco farà tesoro di questo anche se non voto perché il sindaco queste cose le faccia proprie perché so che le ha interiorizzate e sono nel suo essere rappresentanti del comune della provincia delle forze politiche che lo sostengono grazie consigliere consigliere franchin prego grazie grazie presidente io intervengo dopo che hanno parlato autorevoli componenti di questa di questa aula e hanno già espresso tutto quello che si poteva dire secondo me mi sembra che valga la pena sottolineare una cosa perché questo tema viene portato in consiglio comunale e cosa deve fare il consiglio comunale rispetto a un tema della sanità o della gestione della sanità allora io vorrei innanzitutto dire cos'è un ospedale oggi perché mi sembra che non sia stato detto in maniera così chiara cioè l'ospedale di Proona riceve ogni giorno da 40 a 50 richieste di ricovero 40-50 persone che devono entrare trovare il posto letto e quindi 50 che devono uscire cioè non c'è tanta storia quindi la prima cosa è questa l'ospedale 2015 è un ospedale con pronto è un grande pronto soccorso che distribuisce pazienti dentro le situazioni di acuzie fondamentalmente quindi quello che io vorrei che in qualche modo facessimo nostro da questa assemblea è un ospedale moderno deve avere un pronto soccorso importante e il pronto soccorso importante richiede tecnologia e l'ospedale 2015 è tecnologia per questo non c'è nessun conflitto col territorio chi ha in testa l'idea che il territorio sia in conflitto che i primari siano in conflitto con il territorio è un'idea del 1900 attualmente non è questo più il problema il problema è la gestione del quotidiano essere in pronto soccorso vuol dire essere non dico in trincea ma insomma è abbastanza dura in una giornata è difficile lo sa benissimo penso Vincenzo allora questa è la problematica la problematica è che un'amministrazione consapevole abbastanza così attenta ai bisogni dei cittadini deve portarsi un problema di cosa fare del proprio ospedale e di come far sì che il territorio sia la risposta giusta ai quei 40 50 persone che si rivolgono per essere ricoverati in ospedale ogni giorno e quindi la prima cosa è questa facciamo la fotografia della realtà la realtà è che abbiamo bisogno di un ospedale moderno che vuol dire grande pronto soccorso specialità e tecnologia queste sono quindi investimenti le spese sono sulla tecnologia sui farmaci attualmente non è che il personale non prende la fetta più grande se non numericamente forse ma non è che i soldi in ospedale non si fanno più li faranno i medici privatamente è un'altra storia questa ma l'ospedale non ha più una rispesa per il personale così forte come un tempo e sulla spesa ce l'ha sul rinnovamento tecnologico e sulla farmacologia penso che il consigliere del bene conosca meglio di me è il problema quindi non c'è più questa storia della conflittualità c'è una mutua necessità che le due cose si sviluppino insieme l'ospedale non può far fronte a quello che sta succedendo ogni giorno andate in una medicina fate il giro di una medicina vedete quanti acuti ci sono in medicina o fate il giro di una cale di riposo vedete quanti autosufficienti ci sono non ci sono autosufficienti sono un numero assolutamente esiguo in una medicina sono assolutamente esigui i pazienti che si alzano dal proprio letto non ci sono più il problema dei bagni in ospedale è stato risolto perché nessuno ci va più da solo non dimentichiamo queste cose quindi grande ospedale in termini non numerici non di quantità ma di qualità tecnologia pronto soccorso specialità questo è il nostro ospedale per quanto mi questo deve essere il nostro ospedale un ospedale che intanto deve costruire le sue capacità le sue specialità non è che per legge noi abbiamo le capacità di attirare i pazienti se non abbiamo un'equip non è il primario i primari non esistono più non voglio più parlare dei primari è un gruppo che funziona è il gruppo che tiene in piedi un ospedale che tiene in piedi un reparto e la capacità di stare insieme che tiene infermieri medici tecnici questo è un ospedale questo è un reparto penso che del ben sia d'accordo questo è quello che io richiederei come grande così con grande partecipazione emotiva da parte mia anche al nostro sindaco queste sono le cose da difendere le capacità che ha avuto l'ospedale in 30 anni di costruire grandi capacità sia nelle specialistiche mediche che chirurgiche vanno difese vanno fortemente difese abbiamo avuto personaggi di grande qualità che sia per motivi di età o per altri sono stati persi ma vanno difese le professionalità che sono state create in questa situazione quindi la multidisciplinarità quindi la multidisciplinarità allora per me questa è la problematica importante cioè non mi interessa questo ruolo di vertice che hanno mi interessa il gruppo il gruppo che è in grado di affrontare le problematiche quindi il territorio è indispensabile non c'è niente non è più una scelta è una necessità vissuta non solo dagli operatori ma anche dai pazienti cioè i pazienti non vogliono più farsi ricoverare far ricoverare un paziente è difficile è difficile bisogna convincerlo a farsi ricoverare quindi non è una cosa però la cosa che mi interessa ugualmente il problema deve avere un ospedale tecnologicamente adeguato tecnologicamente adeguato in collegamento col cro che è l'unica realtà in questo momento in grado di reggere è una realtà in grado di reggere con le università per esempio chi è che fa la riforma sanitaria della regione le fa le università l'ha detto prima il consigliere dal Massi cioè i centri di riferimento sono le università è inutile negarlo lì è il centro noi dobbiamo far sì di portare via una quota di questo potere lo facciamo attraverso la nostra capacità di essere di essere referenziali di essere autori di essere in grado di essere bravi tecnologicamente bravi clinicamente cioè guarire secondo me detto questo bisogna andare a un confronto con le università io spero che il nostro consiglio comunale sia di dare un messaggio forte che vogliamo la formazione noi vogliamo la formazione qua la vogliamo in ospedale la vogliamo al cro non può essere un diritto esclusivo dell'università il nostro punto debole non riusciamo a crearci in qualche modo a crearci in sede una quota di personale che è in grado di gestire la sanità non possiamo chiamarli da fuori non vengono chissà perché uno non riusciamo a portare per l'oncologia lo saprà benissimo sempre Gianni del Ben la difficoltà che viene di portare oncologi da fuori qua quando sono io nell'università il loro potere l'università è il vero centro di potere lo sappiamo tutti non è che perché raggruppa un sacco di situazioni e quindi noi dobbiamo far sì che ci venga riconosciuta una capacità di formare che siano infermieri tecnici, medici noi vogliamo la formazione e la vogliamo in questo ospedale e la vogliamo al cro perché questo territorio dovrà reggere solo sulla formazione del personale che in loco riesce a formare e a motivare è quello che è successo negli anni 80 quando sono arrivati i cardiologi bravi i chirurghi bravi e hanno creato qua localmente la formazione questo ha creato l'ospedale di qualità degli anni 90 il fatto di aver creato localmente una capacità di formare nuovi soggetti nuovi operatori quindi a me interessa ospedale tecnologicamente avanzato a noi interessa parlo personalmente non è che parlo a nome del fiume stavolta parlo a nome personale a me interessa che l'ospedale sia di forte capacità tecnologica di grandi capacità innovativa organizzativa interna quindi primariati basta ma capacità di fare equip grande capacità di essere in formazione per tutti i giovani che abbiamo in questo territorio e che devono venire anche da fuori e secondo me un grande riconoscimento alla complessità cioè io chiedo che venga riconosciuta la complessità dei processi che questo territorio ha messo in atto gli ha messo in atto in oncologia dove abbiamo sicuramente prodotto dei buoni risultati affrontando la complessità e li abbiamo messi insieme in cardiologia li abbiamo messi insieme in ottorino come ha ricordato anzi forse l'ottorino l'ha messo anche tra i primi in questa situazione e io richiedo che venga gestita la complessità e quindi affido al nostro sindaco il compito di difendere un ospedale d'avanguardia un territorio che necessariamente deve essere allo stesso livello non è possibile staccare due cose per questo sono favorevole al fatto che ci sia un'unica gestione che questo posto però sia in grado di formare che venga data una quota di capacità di formare formare giovani medici tecnici infermiere è il passo fondamentale e questo è il passo che differenzia perché dopo questa cosa qua la vedi fra dieci anni non subito quando fra dieci anni sei attrattivo perché hai equip formate non hai primari formati un'altra storia grazie 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 consigliere franchin bene nessun altro iscritto pertanto dichiaro chiuso la discussione chiedo all'amministrazione se ha se vuole intervenire per eventuali repliche no nulla perciò no no chiedo solo se prima di passare alle dichiarazioni di voto prego date la parola all'assessore grazie mi sembra che la condivisione degli obiettivi che l'amministrazione aveva presentato sono abbastanza condivisi e ringraziamo sicuramente il sindaco per la sua disponibilità importantissima a seguire quello che verranno scritto nelle schede fra pochi giorni poi perché comincerà la iscrizione nelle schede fra pochi giorni poi dovrà andare in terza commissione in discussione quindi seguirà il tempo che deve seguire sono momenti importantissimi d'ora in poi concependo che la nuova riforma sanitaria ha gli obiettivi che molti di voi questa sera hanno detto e noi condividiamo in pieno grazie grazie assessore ascoltando il dibattito che abbiamo avuto io vorrei sottolineare che alla fine tutti questi interventi sono andati sul fatto che la vigilanza che noi dobbiamo esercitare come parte in causa diretta io in primis penso che sia un evito da parte di tutti e si concentra su punti che tutti hanno sottolineato come comune cioè il fatto di avere questo ospedale lo definisco moderno va bene dal punto di vista organizzativo tecnologico della capacità anche di creare delle organizzazioni diverse di preservare le competenze che sono state sviluppate in tanti anni localmente e di non disperderle e terzo di avere questa formazione questa possibilità di formare la gente qui come avevamo fatto negli anni scorsi sono delle caratteristiche che noi dobbiamo attraverso una lettura attenta del riordino comunque preservare il fatto di avere questa assoluta contiguità tra la parte dell'ospedale visto come il punto di riferimento delle acuzie ed il territorio visto come struttura fondamentale per fare da filtro insieme mi sembra anche che sia condivisa concettualmente e questo mi rivolgo a chi ha presentato questa mozione se alla fine tutti insieme convergiamo sul fatto che io debba avere simbolicamente diciamo come città il monitoraggio per essere sicuri che le cose che sono state proprio citate qui nel testo vengano fatte penso che tutti mi avete fatto questo invito alla fine io penso che il motivo della perplessità della discorre dove non siamo esattamente sullo stesso piano di discussione sia questa assoluta indispensabile complementarietà di territorio ed ospedale che passa attraverso la creazione di un unico ente che alla fine abbia la responsabilità organizzativa di entrambi i lati e questo è il motivo della discordia ma io vi chiedo possiamo questa sera chiudere questa discussione fermandoci sulla cosa più importante cioè da parte di tutti l'invito al sottoscritto e a questa giunta di monitorare perché la parte del riordino presenti con gli aspetti qualitativi di perequazione e di garanzia di quella modernità della struttura sanitaria che noi vogliamo avere qui perché mi sembra che questo sia il nostro sentire comune quindi io non so adesso mi dispiace di non essere così attrezzato dal punto di vista normativo se questo debba essere da parte vostra trasformato in una raccomandazione cambiata la mozione ma possiamo almeno terminare la nostra discussione con una forte enfasi su questa parte che darebbe a tutti noi alla fine a me in primis un mandato molto chiaro e nella prosecuzione perché ci misureremo nei prossimi mesi la possibilità di avere tutti voi dietro che spingete esattamente nella stessa direzione è una domanda che le faccio grazie grazie signor sindaco su l'ordine dei lavori sul sì prego su che cosa prego date la parola al consigliere del massimo un attimo un attimo sì fondamentalmente il sindaco ha fatto un invito a tutti noi proponenti delle mozioni noi stiamo discutendo due mozioni in questo momento e dobbiamo un po' decidere se andiamo alla votazione andiamo alla votazione trasformiamo in raccomandazione i proponenti potrebbero trasformare in raccomandazione pertanto non si vota reputo comunque positivo il confronto che abbiamo avuto questa sera su questo tema perché benché ci siano delle differenze di opinioni che io assolutamente rispetto anzi devo ringraziare coloro che sono intervenuti mi riferisco in particolare al consigliera Bonatto del PD perché ha esposto quella che è una visione in modo chiaro insomma una visione del sistema e quindi intanto di cappello io riconosco la validità delle la validità non l'efficacia dal mio punto di vista delle asserzioni che ci sono state fatte perché evidentemente rispondono ad una filosofia in una visione la mia è completamente diversa io ho presentato una legge in regione che dice cose diametralmente opposte a queste non è che me le sono inventate io perché faccio l'avvocato non sono un medico avevo un compito che l'ho espletato allora ascoltando una parte del sistema forse una parte troppo piccola e quindi parziale e quindi non contenente una una verità il consigliere del ben ha posto con attenzione una questione centrale di questo dibattito caro sindaco la questione la questione del cromi creda non è un problema che abbiamo noi in testa a Pordenone è un problema che hanno gli udinesi in testa che non sono mai riusciti a diserirlo di fatti lui ha ragione quando dice quando lo ha detto chiaramente in questa legge l'aspetto della ricerca non si fa riferimento a ricerca traslazionale non si dice che a ricerca traslazionale si fa mentre si dice che a ricerca cosa si fa a Trieste sulla ricerca e cosa si fa a Udine sulla ricerca tranquilli questo è il problema cioè io capisco hai ragione tu sei uno che ci lavora tutti i giorni dentro l'ospedale sei un qualificato e bravo medico però sono purtroppo queste miserie sulle quali dobbiamo confrontarci per cui io sono d'accordo colgo l'invito del sindaco a trovare un elemento di dialogo comune di quest'aula almeno su alcune cose che possiamo individuare ecco allora il riferimento alle schede il riferimento a ciò che farà la giunta regionale in relazione alle funzioni del reparto senza trarre merito ospedale sì territorio ospedale e territorio assieme perché lì siamo su due mondi completamente diversi non ci mettiamo d'accordo è inutile che stiamo a discutere su questo perché ognuno la confusione regna sovrana e quindi come tale e come tale è una situazione eccellente cioè da questo punto di vista ripeto non ne veniamo fuori anche perché parliamo di cose molto importanti c'è un errore di fondo sindaco l'abbiamo fatto l'ha fatto questa città secondo me nel 2013 non lo so avrete ragione voi la storia vi darà ragione forse tutti quelli che invece fanno riferimento alla storia non so se poi ha tanto senso avere ragione alla storia credo noi lì abbiamo perso un'occasione però anche questo significherebbe rimarcare una distinzione di posizione che è all'evidenza inconciliabile quindi non so il consigliere Ribetti cosa intende fare sulla sua mozione per quanto riguarda questa mozione qui noi possiamo trasformarla in una raccomandazione perché non ci sono altri altrimenti dovremmo andare al voto se dovessimo andare al voto lo dico anche alla stampa a quel punto cosa succede che noi votiamo restiamo minoranza voi vincete vincete voi voi si la mozione viene respinta e quello che di buono in qualche modo era venuto fuori oggi lo avremmo disperso in un gioco di numeri in maggioranza posizione quindi non avremmo senso quindi per quanto mi riguarda non so se poi gli altri colleghi che hanno affermato sono ben nove intendono procedere sotto la richiesta di raccomandazione restando inteso che però almeno consentitemi di chiarire una cosa che il dispositivo nella sua integrità è questo cioè è chiaro che ciò che dice il dispositivo è volontà comune dell'aula ma l'abbiamo letto bene sì ok quindi proposta di trasformarle in raccomandazione allora scusi lei comunque i proponenti io vedo quattro proponenti no io ho della verità come proponenti in mozione vedo quattro come richiesta di convocazione siete in nove perciò riterrei che i proponenti rimangono in quattro di cui tre presenti se qualcuno si oppone no e neanche il consigliere Giannelli pertanto viene trasformato in raccomandazione pertanto non viene non viene votata non viene votata pertanto la otto per la quattro invece adesso passeremo alle dichiarazioni di voto salvo che prego se guardi l'intenzione era quella ma l'avevo anche credo fatto capire all'inizio del mio intervento precedente quando l'ho presentata noi la ritireremo anche perché è datata credo che ci siano dei problemi a termine di regolamento non so se possono essere bypassati da un voto sull'emozionatore devo chiedere se c'è qualcuno che si oppone a questo ritiro perché se qualcuno non si oppone noi la ritireremo anche perché trasformare la raccomandazione sarebbe prendere in giro perché lei sindaco non è andato a firmare l'accordo di programma quindi chiaramente non possiamo adesso è datata quindi anche o ce la facciamo bozzare da un voto del consiglio mi sembra chiaro altrimenti se è possibile noi la ritireremo altrimenti il consiglio si esprima chiedo al consiglio se c'è qualche consigliere contrario a questo ritiro bene pertanto la consideriamo ritirata è ritirata bene passiamo ora ad un'altra mozione così vediamo la numero 5 del 2013 annullamento spettacoli fuochi d'artificio per la tutela dell'ambiente degli animali proponenti consigliere Giannelli Dalmas De Bortoli Cabibbo Peresson Epicinato è un argomento che può essere affrontato in mezz'ora spero allora sarò brevissimo questa mozione dell'altro anno se l'altro anno l'altro anno i fuochi d'artificio non sono stati fatti per mancanza di soldi se quest'anno voi non li fate io smetto qua e siamo a posto chiedo all'amministrazione si c'è il consiglio scusate scusate date la parola dal consigliere per quanto no 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 date la parola non funziona un attimo non schiacciare nessun pulsante un attimo usa un attimo usa un attimo ecco ecco risorse non si fanno vorrei che ci fassi una presa di posizione anche intendiamoci questo per evitare la riproposizione a me sta bene però mi piacerebbe sentire assunto che quest'anno lo rifacciamo per mancanza di soldi cercheremo di esaudire la richiesta degli animalisti che vede nei fuochi d'artificio terrore morte per dei poveri animali prego prego sessore e consigliere Giannelli posso assicurarle questo se avessimo discusso in tempo avremmo fatta nostra la vostra proposta quindi non ci sono problemi grazie bene è ritirata bene si passa adesso la mozione numero 6 2013 situazione electro spordenone proponenti consiglieri Pasut e Cardin prego la parola al consigliere Pasut grazie presidente sarò sarò mio malgrado breve esattamente un anno fa abbiamo scritto questo documento che che secondo me conteneva alcune indicazioni che potevano tornare anche interessanti ma ahimè un po' per la storia come si sta evolvendo un po' qualche volta perché non si ha il coraggio ecco noi chiedevamo in questa mozione che il sindaco si facesse promotore di una serie di iniziative di attenzioni in realtà è stata convocata a suo tempo una assemblea un consiglio comunale dedicato in effetti su questo problema di Electrolux ma questa sera come dire no celebriamo la trasformazione di una serie di emozioni raccomandazioni o un ritiro perché perché è passato tanto tempo insomma allora per noi che dovevamo essere una smart city per noi che dovevamo in qualche maniera ospitare uno sportello google per noi che avevamo in mente un'innovazione importante ci troviamo ad un anno al termine di questa amministrazione a tirare i remi in barca e devo dire dico questo con ramarico perché è una mozione come questa qua non che le altre siano meno importanti ma era stato il frutto di un lavoro intenso importante e dava a questa amministrazione anche qualche spunto per tenere monitorato tenere monitorata la situazione di Elettrus non che questa amministrazione sarebbe stata in grado di sortire una storia diversa di come stanno andando le cose ma almeno avrebbe dato l'opportunità a un territorio ad una città capoluogo di far sentire la propria voce per una realtà produttiva che le appartiene noi qui abbiamo fatto troppo silenzio signor sindaco noi qui noi chiedevamo possiamo accettare che continui il processo di distruzione delle attività produttive del nostro territorio è certo che avere idee in questo momento non è facile ma dare la possibilità e stimolare l'imprenditoria affinché in qualche maniera ci si facesse avanti poteva essere uno spunto per valorizzare questa amministrazione e allora allora noi abbiamo lasciato decantare questi questi sforzi che abbiamo fatto così un anno depositati nell'elenco delle 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 mozioni delle mozioni da discutere ecco noi voglio dire signor sindaco noi non la non la proponiamo al dibattito questa sera per noi non so se sarà corretto chiedere la trasformiamo quindi in una in una sorta di raccomandazione ci sono alcuni alcuni elementi che secondo me potrebbero essere presi in considerazione da questa amministrazione e chiedere e chiedere per esempio che un territorio così importante che è stato la culla della produttività possa in qualche maniera essere richiamata attraverso la regione attraverso anche il Parlamento nazionale allora signor sindaco a lei e alla sua giunta per questo tempo che ci rimane ahimè poco se vuole considerare gli spunti contenuti in questa mozione noi la trasformiamo appunto in raccomandazione certo prego signor sindaco mi consentitemi un commento sul su questo tema specifico proprio perché è passato un certo periodo di tempo dal momento più acuto della della crisi di Electrolux a mio avviso mi scusi consigliere una discussione su questo tema avendo una mozione come traccia secondo me sarebbe utile e pur comprendendo alcune motivazioni di fondo scusate se devo fare un rilancio mi rendo conto che può essere insolito ma a mio avviso invece proprio adesso non so insisto potremmo fare una mozione tipo particolare su questo riprendere questa esattamente come era stata strutturata per consentirci di avere un dibattito sul tema che è dopo abbiamo parlato di sanità è difficile non parlare di lavoro qui dentro quindi sarebbe il caso secondo me ma adesso prego date la parola al consigliere la ringrazio signor sindaco non modifico ciò che ho detto quindi rimane raccomandazione anzi rilancio a lei affinché lei elabori se vuole utilizzare gli spunti che da questo documento che abbiamo prodotto per un dibattito io sono felice di questo noi siamo felici e se volete a sto punto allora lasciamola pure all'ordine del giorno la lasciamo con questo d'accordo vorremmo partire con il suo aggiornamento della situazione sì volevo allora per rifare veramente il punto della situazione e in generale io credo che sull'electrolux alla fine la situazione così come si era conclusa a livello di trattativa sindacale penso che sia abbastanza nota ma ci mancano gli aggiornamenti di volumi di fatturato come è andato quest'anno dal punto di vista del mercato io questi ve lo dico chiaro questi dati al momento nelle mie mani non ce l'ho perché devo fare una sintesi annuale di quelli che sono stati i volumi dell'azienda così come vengono dichiarate nelle statistiche ufficiali il fatto che all'interno della mozione ci siano altri spunti che riguardano in generale i nostri settori industriali qui credo che invece è la parte su cui noi dobbiamo sviluppare il nostro dibattito uno per tutti se uno dei filoni principali è quello di fare dei prodotti più verdi più verdi dal punto di vista dell'impatto ecologico dei consumi un aggiornamento e un flash su quanto sta succedendo nella nostra provincia vedendo quanti prodotti sono in fase di revisione innovativa da parte di anche aziende poi farò un accenno che inaspettatamente rinnovano i loro prodotti in questo senso secondo me ci sarebbe utile perché fanno capire qual è l'effettiva innovazione che nonostante tutto si sta cercando di sviluppare nel nostro territorio l'esempio che vi faccio è la nuova macchina Savio che verrà lanciata tra poco è una macchina voi sapete Savio fa le cosiddette macchine tessili ma una delle cose principali è il fatto del rocchetto e del consumo energetico che è collegato a questa macchina la nuova macchina avrà rispetto ai 30 kilowatt che oggi consuma mediamente una macchina Savio avrà un consumo praticamente quasi zero perché è stata fatta un'innovazione specifica per rendere anche una macchina industriale come questa da un punto di vista ambientale estremamente compatibile allora a mio avviso sono questi perché era questo che voi chiedevate un flash e una situazione più aggiornata diciamo sul fronte a Eleclus che ci ha visto tutti tutti partecipare ma il resto un rilancio com'è effettivamente volendo fare una foto la fotografia così dell'innovazione e quello che di buono si sta muovendo nella nostra provincia dal punto di vista industriale e manufatturiera perché di esempi ce ne sono tanti io consiglierei proprio di usare questa mozione per avere anche da parte di tutti i consiglieri un contributo in questo senso condividere delle informazioni ma anche ricevere degli stimoli su come noi come comune voi sapete possiamo fare delle azioni ma non illimitate come meglio dirigere i nostri sforzi il prossimo anno questo è il target bene va bene do la parola al consigliere Pasotto confermo cosa ringrazio il sindaco ciò che ha detto il sindaco mi consente appunto di ritirare quindi la richiesta di lasciarla quindi all'ordine del giorno che appartenga a un dibattito allargato a tutto il consiglio comunale quindi che a questa si aggiungano altri altri interventi quindi la lascio al ma allora lei si ho capito no questa sera non possiamo discutere a mezz'ora dalla fine cioè neanche no allora sì ma allora cioè sono le 10 e 10 no 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 un attimo spieghiamo allora io devo chiudere i lavori adesso perché la mozione rimanga oppure lei la illustra e poi la prossima volta la affronteremo io io chiedo chiudiamo i lavori adesso e con il prossimo consiglio comunale cominciamo cioè in buona sostanza non posso passare ad un'altra mozione se non questa qua va in coda perciò o chiudiamo i lavori chiudiamo i lavori adesso se non ci sono devo chiedere chi è d'accordo nella chiusura dei lavori chi è contrario alla chiusura dei lavori in consiglio signori della Lega non mi ascolta e tutti d'accordo c'è qualche sì perciò la prossima mozione che verrà affrontata al prossimo consiglio sarà questa va bene grazie un attimo scusate devo comunicare una cosa il consiglio comunale verrà convocato il 24 novembre prossimo consiglio 24 novembre per per assestamento verrà comunque riconvocato al domicilio come previsto dal regolamento dovevate comunicare la delibera del fondo di riserva la delibera del fondo di riserva comunicazione comunicazione del sindaco chiesto metodo di no abbiamo ancora un tempo anche il 24 siamo in tempo utile non era qua ok bene sono le 22.10 dichiaro chiusi i lavori del consiglio buonasera a tutti e grazie grazie